Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, passo la parola al Segretario per l'appello. Presente. Maggiori Renata, Gobbi Cecilia, Feliciani Michele. Presente. Scignoni Daniele. Assente. Ricci Ruben. Presente. Ah no, presente. Presente, presente. Spilli Tommaso. Brandoni Giorgio Maria. Rossi Filippo. Sabatini Matteo. Presente. Simoncini Stefano. Presente. Bordoni Monica. Antonelli Sandro. Assente. Bottegoni Lorenzo. Presente. Presente. Araco Mario. Donia Caterina. Assente. Ginnetti Achille. Alessandrini Passarini. Alberto Maria. Assente. Quindi cinque assenti, venti presenti. La seduta è valida. Cedo la parola al Presidente. Grazie, Segretario. Passiamo al primo punto, all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del Sindaco. Non ci sono comunicazioni del Sindaco, quindi passiamo al secondo punto, che è l'interrogazione del consigliere comunale Simoncini, in merito al concorso per direttore generale azienda speciale Asso. Vado a leggere l'interrogazione. Il sottoscritto consigliere comunale Stefano Simoncini, con la presente, avendo avuto conoscenza di un nuovo concorso per direttore generale della partecipata Asso, deliberato dal CDA con atto numero 15 del 13 aprile 2022, preso atto che a seguito di un precedente concorso giusta delibera CDA numero 1 del 18 gennaio 2021, era approvata dal CDA con atto numero 23 del 30 marzo 2021, la precedente gradatoria per direttore generale, che secondo il bando relativa a questo primo concorso per direttore generale della partecipata Asso, tale gradatoria sarebbe stata valida per due anni, prorogabile di un anno con semplice delibera del CDA, articolo 13 del bando, che sempre l'Asso ha emanato un avviso per vice direttore come da delibera del CDA numero 16 del 13 aprile 2022, senza che questa figura professionale sia prevista nell'organigramma aziendale, rinvenibile al link della gazzetta amministrativa. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere comunale Stefano Simoncini interroga l'amministrazione comunale e la presidenza Asso per sapere 1. Come mai l'Asso non ha attinto alla graduatoria in vigore per la ricerca del sostituto del direttore generale, disattendendo quanto dalla società stessa deliberato col precedente bando per direttore generale dell'articolo 13? 2. Qual è il costo di una nuova selezione pubblica per direttore generale, comprensiva dei costi di dipendenti distaccati temporaneamente alle varie operazioni necessarie? 3. Come mai, nonostante non sia prevista dall'organigramma della società, si svolge un concorso per ricercare la figura del vice direttore, mai avuta in tutti gli anni di vita della società, senza una delibera del CDA di modifica dell'organigramma? Passo la parola, se me la chiede all'assessore Pellegrini, per la risposta. Prego, assessore. Grazie, presidente. Allora, nel rispondere, ritengo opportuno chiarire alcune cose, cioè l'azienda speciale prevede due figure distinte. Una è quella del direttore generale, che è organo necessario dell'azienda speciale, è previsto dal testo unico degli enti locali. Poi, l'azienda ha anche nell'organigramma un direttore amministrativo, ma il direttore amministrativo, a differenza del direttore generale, non è organo necessario dell'azienda. Detto questo, però, bisogna anche dire come è nata l'asso, cioè quando nel 2014 l'asso si è trasformata da SRL tutta comunale in azienda speciale, in realtà è nata sempre senza la figura del direttore generale, cioè che cosa si è fatto da quando è nata l'asso? Si è dato in carico al direttore amministrativo di svolgere pro tempore la funzione di direttore generale. Questo perché lo statuto lo consente, certo prevede la figura obbligatoria, ma così per legge, il direttore generale, però, dice lo statuto, in caso di impedimento di vacazio e così via, il consiglio di amministrazione può ricercare esternamente la figura oppure può darla internamente, affidarla temporaneamente, ovviamente per un periodo, diciamo, limitato, a figure apicali interne. Quindi l'asso, dalla sua genesi, a gennaio del 2014, diciamo, è nata in questo modo, cioè, come dire, diciamo come ci fosse già all'inizio la vacazio, e quindi, dice, il direttore amministrativo è stato nominato, dato l'incarico per direttore generale. Quindi in questi casi, no, si congela il rapporto contrattuale di direttore amministrativo e si applica il rapporto contrattuale che prevede lo statuto. Lo statuto dice che il direttore generale è rimelurato, insomma, fa riferimento a un altro contratto, che non è quello che si applica ai dipendenti asso, ma fa riferimento al contratto del comparto degli enti locali. Detto questo, veniamo ora ai due bandi che cita il consigliere Simoncini nell'interrogazione. Ora, lui fa riferimento, allora, al bando del, il primo riferimento al bando del 18 gennaio 2021. Nel 18 gennaio 2021, cioè quando, diciamo, a fronte del pensionamento del precedente direttore amministrativo, ma che dal 2014 fino al pensionamento ha fatto, ha svolto, diciamo, facente funzione di direttore generale, in quel caso, eh, l'asso, diciamo, ha, eh, diciamo, percorso, eh, la, la, la vecchia via, e cioè, ha fatto, e qui, eh, l'errore in cui, eh, è caduto il consigliere Simoncini, non un bando per direttore generale, come erroneamente scritto, ma nel 18 gennaio 2021 è stato fatto il bando per direttore amministrativo. All'esito dell'espletamento del concorso, quindi la vincitrice, la dottoressa Lara Gabanelli, poi è stato assegnato, come dire, il, eh, diciamo, l'incarico, l'incarico di direttore generale, eh, appunto, per un periodo determinato. Quando poi, diciamo, è, eh, ci sono state le, eh, diciamo, le dimissioni del, eh, precedente assunto come direttore amministrativo, ma subito dopo incaricato in protempo e come direttore generale, l'asso, eh, con il bando del 13 aprile del 22, ha fatto questa volta, non un bando per direttore amministrativo, ma ha fatto un bando per direttore generale e, diciamo, le cui, eh, prove concursuali, credo, si stiano svolgendo, si stiano svolgendo in questi giorni. Quindi, questo, eh, ci ho premesso e chiarito, la domanda come mai l'asso non ha attinto alla graduatoria in vigore per la ricerca del sostituto dal direttore generale disattendendo quando dalla società stessa deliberato col precedente vando per direttore generale all'articolo 13. Quindi, in realtà, come dire, non è vero, perché si trattava di due figure diverse. Noi non possiamo attingere, no, per la nomina del direttore generale dalla graduatoria per direttore, per direttore amministrativo. Sono, come dire, due, eh, due concorsi diversi che richiedono requisiti diversi con retribuzioni diverse e quindi, diciamo, eh, quindi qual è il ragionamento avrebbe avuto ragione il consigliere Simoncini se avessimo nominato un altro direttore, fatto un nuovo bando per direttore amministrativo. Allora, chiaro che lì, eh, non si poteva perché c'era una graduatoria, perché c'era una graduatoria aperta per la stessa posizione, ma qui, diciamo, stiamo parlando di concorsi diversi per due figure, per due figure ben distinte. Ora, eh, alla domanda qual è il costo della, della selezione, eh, per quanto a mia conoscenza, il costo è di circa cento euro, perché, eh, diciamo, eh, due commissari, eh, sono, non hanno, eh, preteso nulla, eh, mi sembra invece per un altro membro, eh, del consigliere di amministrazione, eh, una fattura di cento euro. E per quanto riguarda la figura del vice, del vice direttore, allora questa ovviamente non è una, un organo necessario del, 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 dell'organigramma in base al Tuel, no? Così come abbiamo visto, non è un organo necessario il direttore amministrativo. È vero che non era, eh, una figura che era precedentemente prevista nell'organigramma, però, diciamo, si è fatta questa scelta, cioè si è fatta questa scelta di introdurre questa, eh, figura, e ovviamente è vero che, mh, probabilmente qui, sì, non c'è stato un aggiornamento online, ma, eh, la delibera del, del, eh, della, mh, dell'introduzione di questa figura nell'organigramma, eh, reca lo stesso giorno, il tredici aprile ventidue, in cui è stato fatto, diciamo, anche il, 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 il bando per la selezione interna per il vice direttore. Però ecco, eh, quindi, mh, viene l'organigramma. Adesso non so se sia stato aggiornato in tempo reale, probabilmente no, ovviamente se il consigliere Simoncini non, non, non l'ha visto, questo significa evidentemente che non c'è stato un aggiornamento, eh, eh, diciamo, eh, immediato. Eh, però qui in questo caso, eh, si è fatto una scelta di politica aziendale del Consiglio di Amministrazione dell'Asso, cioè quella di, eh, coprire questa figura ricorrendo ad una, eh, selezione, ad una selezione interna nell'ottica anche, diciamo, di, eh, dare possibilità, no, di crescita al, al personale, eh, al personale interno della Asso. Grazie, Presidente. Grazie, Sessore Pellegrini. Passo la parola al consigliere Simoncini per la, per la replica. Prego, consigliere. Inizio subito col contestare quest'ultima affermazione. A me risulta che, eh, non solo non sia prevista nell'organigramma della società la figura del vice direttore, ma risulta anche, però potrei essere smentito, ma credo che, che sia come dico io, non c'è nemmeno un deliberato del CDA che ha modificato l'organigramma e invece noi sappiamo che questo, eh, questa delibera del CDA per, eh, è necessaria. Per quanto riguarda, eh, la precedente, la risposta alle, alla, alla, alla domanda numero uno, beh, io non credo di non aver fatto proprio nessun errore, perché è proprio l'assessore che ci ha detto che la Asso aveva fatto un concorso, eh, per direttore amministrativo, eccetera, eccetera, ma a questa figura, cioè alla signora Gabbanelli Lara, era stata attribuita, eh, erano state attribuite le funzioni di direttore generale. E allora, ma perché non proseguire su quella graduatoria e confermare quanto fatto non nel 2014, assessore, ma nemmeno un anno fa? Cioè un anno fa si è scelto di fare un concorso e scegliere una figura a cui attribuire i poteri e, eh, le responsabilità di direttore generale. Oggi questo non va più bene. Ma come mai? Ma non è forse il secondo arrivato, eh, che non conosco neanche, il terzo arrivato, il quarto arrivato, in questa graduatoria non sono, eh, di gradimento della società? perché qui il dubbio, eh, se mi consente, viene. E poi perché stavolta fare un concorso e addirittura, come lei ci ha detto, per, per fare, per far far carriera a qualcuno all'interno della Asso, si è fatta una selezione interna per dire, per vice direttore, quando in una precedente mia interrogazione, in merito alla sostituta della psicologa che, eh, aveva dato le dimissioni, non si è operato una selezione interna, ma si è dato un incarico temporaneo, che poi vedremo quanto sarà temporaneo, temporaneo per un anno, ad una figura, eh, professionale, eh, ad personam, senza concorso, senza bando, senza far sapere nulla alle altre colleghe della, eh, della sostituta scelta. Ecco, questi modi di amministrare una società, benché lei dica che il costo è solo di 100 euro, ma io dubito che sia solo di 100 euro, perché naturalmente durante una selezione ci devono essere delle persone, eh, delle, delle persone della società che, eh, che, insomma, stanno lì, controllano, sorvegliano, e quelle non hanno un costo, se stanno lì al concorso non stanno a fare un altro lavoro, ed è un costo indiretto. Quindi la risposta delle 100 euro è veramente una risposta del tutto banale, addirittura offensiva della, eh, dell'intelligenza di chi l'ha data. E comunque voglio dire, questo modo di portare avanti la società ASSO, e cioè, una volta fare il concorso interno per vice direttore anche quando l'organigramma non lo prevede, un'altra volta chiamare ad personam una, mh, dipendente per sostituire la psicologa senza, non solo senza fare una selezione interna, ma nell'assoluto silenzio per non far sapere niente a nessuno e poi, eh, non attingere ad una graduatoria in essere che è stata proprio deliberata, eh, no, all'articolo 13 del bando, del bando, eh, i concorrenti sapevano che la graduatoria sarebbe, sarebbe rimasta valida per, mi pare, un biennio prorogabile di un altro anno a semplice delibera del CDA. E quindi stavolta no, perché dobbiamo cambiare figura, perché come abbiamo fatto fino adesso non va più bene. Insomma, a me pare che questa, la gestione di questa società, eh, sia assolutamente, mh, non soddisfacente per non dire da incompetenti. E, eh, perché davvero, la, eh, si concluda, grazie. Ok, perché, sì, sì, perché davvero la ASSO è il top delle partecipate osimane per scopi e attività ed è amministrata veramente molto male. Grazie consigliere Simoncini. Passiamo alla interrogazione 2.2 che è del consigliere Ginnetti. In merito al presidio della Polizia Municipale in centro. Il sottoscritto Achille Ginnetti, consigliere comunale del gruppo Progetto Osimo Futura, premesso che Progetto Osimo Futura prevedeva la costituzione di un presidio fisso della Polizia Municipale all'interno del Palazzo Comunale nel proprio programma elettorale. Ha quindi accolto molto positivamente la decisione dell'amministrazione comunale all'inizio del mandato di istituire un presidio della Polizia Municipale in centro storico, pur individuandone la sede in una piccola porzione degli uffici ex dazio. Nel dicembre 2020 l'amministrazione dichiarava L'ufficio in centro storico della Polizia Locale è oramai quasi completato, un intervento richiesto da tanti anni dalla cittadinanza, un presidio di sicurezza importante e un nuovo punto di riferimento per ogni tipo di necessità. Un anno dopo, nel corso del Consiglio Comunale il 10 dicembre 2021, il sindaco nel rispondere all'interrogazione del sottoscritto sull'ordine pubblico affermava che l'ufficio della Polizia Municipale era di imminente inaugurazione, i lavori erano terminati, mancava solo la postazione internet. Essendo trascorsi più di cinque mesi da allora, interroga l'amministrazione comunale per conoscere se sia già stata fissata la data dell'inaugurazione del presidio della Polizia Municipale in centro, se la sede sia stata mantenuta negli stessi angusti locali inizialmente predisposti o si è pensato di ampliare gli spazi rendendo l'ufficio più accessibile e comodo, se non era preferibile che il presidio di Polizia Municipale fosse stato collocato al piano terra del Palazzo Comunale nell'entrata principale. Passo la parola al sindaco per la risposta. Prego, sindaco. Questi ultimi anni è stato dato un forte impulso all'organizzazione e alla gestione del comando di via Mulino Mensa, e investendo risorse anche per realizzare una nuova sede all'interno del Palazzo Comunale. Tale sede però non doveva assolutamente influire sugli spazi già impegnati da tutti gli uffici comunali, anzi, anche in considerazione dell'imminente lavoro di ristrutturazione necessario a seguito del sisma del 2016 che interesserà sia il Palazzo Comunale che i locali dell'edificio ex-seca, nonché in riferimento alle nuove assunzioni che andranno a rafforzare l'organico di tutti i dipartimenti. Per tale motivazione è stata scelta l'ubicazione in via San Francesco che ha permesso alla precedente attività commerciale di continuare il suo lavoro e ora che tale attività è cessata, permetterà la realizzazione dell'ufficio di pianificazione urbanistica, ottimizzando in questo modo spazi e risorse e fornendo un migliore servizio alla cittadinanza. Tale distaccamento della Polizia Locale è necessario per dare una sede logistica alla Polizia Locale per una migliore organizzazione dei servizi, per dare accoglienza a chi ha bisogno di un'informazione, ma anche per supportare l'attività degli agenti che da quando il comando è stato dislocato circa 20 anni fa in via Murino Mensa non avevano un luogo dedicato all'interno del Palazzo Comunale. Ovviamente la sua realizzazione e il suo allestimento, anche per il non semplice cablaggio della rete, ha richiesto tempi abbastanza lunghi, poiché l'edificio è sottoposto a vincolo monumentale da parte della sovraintendenza delle Belle Arti. Tutto ciò permesso, per rispondere ai quesiti relativi alla localizzazione del presidio e ai tempi di realizzazione, in considerazione poi del periodo pandemico che ha naturalmente modificato l'ordine delle priorità circa gli interventi da effettuare, si pone questo obiettivo. Al di là del nuovo ufficio, l'attività della Polizia Locale è stata sempre molto intensa. Le patuglie e gli ausiliari del traffico sono costantemente presenti in centro storico, anche in orari serali e notturni, durante i fini settimane. Quindi da rimarcare, l'operatività dei nostri agenti, che non dipende dall'apertura o meno di un ufficio di staccato, ma dal loro impegno e dedizione a voler stare sulla strada, al servizio della sicurezza e delle persone. Da considerare poi il fatto, che negli ultimi anni si è dovuto affrontare il completo turnover del personale, che ha inevitabilmente condotto ad una situazione di sotto organico, alla quale si è fatto fronte con due concorsi e due mobilità, l'ultima delle quali verrà espletata nei prossimi giorni, che permetterà di organizzare i servizi anche del nuovo ufficio, quindi durante l'estate l'ufficio sarà operativo. È doveroso e rispettoso poi ricordare che in pieno centro storico sono dislocate anche le sedi del Commissario di Polizia, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che garantiscono il presidio continuo del territorio e che offrono un ottimo e indispensabile sostegno alla popolazione. Ad ogni ora del giorno e della notte e che dunque l'ufficio della polizia locale sarà un supporto alla già meritoria e attività di tutte le forze dell'Odini, per le quali questa amministrazione si è sempre battuta al fine di mantenere le loro sedi in centro città. Quindi il nostro obiettivo è, con i prossimi mesi, visto che si è liberato i locali adibiti all'attività commerciale, andrà all'ufficio di pianificazione urbanistica, il problema del capolaggio è un problema che sembra piccolo, ma invece è un problema importante, perché attorno al Palazzo Comunale ogni capolaggio che viene effettuato, ogni volta che un filo deve scendere dal palazzo, c'è sempre il nulla osta della sua intendenza. Fortuna ha voluto che negli ultimi mesi sia stata nominata una nuova sovraintendente ad Ancona, sovraintendente per le Marche, una persona veramente squisita, che ho avuto modo di conoscere, e che probabilmente ha ringraziato, perché l'amministrazione l'ha cercata, ha voluto un primo confronto con lei, e sarà una persona che ha detto noi vi risponderemo nei tempi, secondo i vostri interessi, secondo le vostre prospettive. Quindi dentro questo contesto metteremo anche quello del capolaggio dell'intero comune, perché il comune, sapete, sta passando, sta passando, è questione di giorni, da 8 megabyte a 300 megabyte, cioè dopo 100 anni di storia del comune di Osimo, che viaggiava ancora a 8 mega, io a casa viaggio a 21, pensate un po', passeremo a 300 mega. Però per fare questa attività, che abbiamo voluto fortemente come amministrazione, ci saranno da capare dei rifili che passeranno anche in fronte al palazzo, e quando qualcosa si fa in fronte al palazzo c'è sempre bisogno dell'unlostra sovraintendenza. Quindi l'allungaggine è dovuta solo a questo, direte è passato tanto tempo, ma siccome sapevamo che i locali si sarebbero liberati, adesso che portiamo l'ufficio di piano a dove era l'attività della caffetteria, potremmo fare un'attività che comprenda sia l'uno che l'altro ufficio. E comunque, come ho risposto in precedenza, erano 20 anni che non tornava un presidio di polizia locale in centro storico, e credo che sia una cosa importante, mi fa piacere il progettuosimo abbia questa attenzione, mi sembra che abbia condiviso allora questa nostra scelta, non è compiuta, ma la compiremo insieme. Grazie Sindaco, passo la parola al consigliere Ginnetti per la replica. Prego. Non so chi è l'estensore di questa risposta, però vorrei consigliare che la prossima volta non c'è bisogno che faccia i panegirici su quanto è brava la polizia municipale, perché io ne sono fortemente convinto. Altresì, ne sono fortemente convinto che si impegni molto. E anche con personale ridotto rispetto all'organico che dovrebbe essere, si dà molto da fare. E' presente anche in piazza, si coordina con le altre forze, ma non è questo il contenuto della interrogazione. Questa risposta, il collega Radom la può dare conforto, assomiglia a quei referti dei radiologi che su un torace che non c'è niente scrivono una pagina e mezza e descrivono tutto, però alla fine effettivamente la lastra è negativa. Tra l'altro qui non ho risposte, ho risposto soltanto che non c'è stata la scelta della del locale all'interno del palazzo comunale perché ci devono essere interventi, speriamo a breve, sindaco, questi sono anni che ne aspettiamo pure, però capisco che ci sono delle lungaggini burocratiche non indifferenti appunto riguardo i lavori del sisma. Ho capito che purtroppo la cessata attività commerciale comunque rende disponibile gli spazi all'interno del locale ex Dazio Dazio mi auguro mi auguro mi auguro che che eh sia ampliata l'assessore anche l'ufficio attuale della Polizia Municipale che effettivamente hanno visto molto molto più eh non cioè mi pare di percepire dalla risposta che come se non ci fosse quasi bisogno della Polizia Municipale al centro non è soltanto per l'ordine pubblico è per come diceva l'assessore Gatto nel dicembre duemilaventi questa dichiarazione era sua che ho trovato online appunto è un punto di riferimento per la cittadinanza cioè è la forza di Polizia di prossimità delle persone quindi è importante per questo cosa che non sono la Guardia di Finanza i carabinieri o gli agenti di pubblica sicurezza e quindi la figura è importante noi siamo noi con il progetto Osino Futura siamo d'accordo non ho che questo avvenga il prima possibile speriamo prima della fine di questo mandato dalla risposta per favore potete spegnere i microfoni da remoto grazie non ho compreso bene se quando si parlava dell'ufficio d'estate aperto si riferisse o no all'ufficio in centro speriamo che sia in centro per il resto ribadiamo il nostro interesse la nostra favorevole la nostra favorevole posizione che ciò avvenga e speriamo in tempi abbastanza abbastanza brevi il fatto stesso e concludo che era vent'anni che non c'era più questo è vero fino a un certo punto ricordiamo che in fasi successive e anche se sporadiche l'ufficio ex ufficio turistico attualmente edicola l'asca era stato occupato dalla polizia di agenti della polizia municipale sia per finalità di ordine burocratico di assistenza permessi ed altro sia per finalità proprio di presenza a livello del centro cittadino comunque ecco sicuramente è una necessità quindi noi la appoggiamo ma lo stesso siamo speranzosi fiduciosi che ciò possa avere possa avvenire in tempi brevi voglio dire il cabraggio del comune che anche qui sono delle cose che è possibile che tra amministrazioni pubbliche ogni volta si debba chiedere per un cabraggio per un ulteriore passaggio l'autorizzazione alla sovrintendenza probabilmente sì ma anche questo capiamo che non siamo nell'ottica della semplificazione ma tutt'altro grazie grazie consigliere Ginnetti passiamo alla mozione 2.4 che è sempre del consigliere Ginnetti in merito al sulle misure di contrasto al caro energia vuole fare la presentazione consigliere Ginnetti della mozione grazie se mi chiede no 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 prego sì prego allora questa mozione è stata presentata a fine marzo del 2022 che appunto in quel periodo in cui erano veramente erano c'era un allarme generale ma giustificato per il notevole aumento della notevole aumento della bolletta energetica sappiamo come come è scritto nella nella delibera che ci sono effettivi i motivi per cui per cui questo è avvenuto sono diversi in particolare la guerra l'aumento dei prezzi post post pandemia e così via però indubbiamente esistono delle situazioni che poi hanno delle ripercussioni a livello della vita di tutti i giorni delle nostre delle nostre diciamo delle nostre famiglie delle famiglie soprattutto quelle con maggiore difficoltà un attimo solo presidente se mi può dare un minuto un minuto solo consigliere ginnetti se conclude un attimo solo un attimo solo ho bisogno di un attimo perché purtroppo non trovo il testo della mozione se qualcuno ce l'ha stampata non la può dare perché non riesco a trovarlo sul sul si c'è un calo di connessione adesso ecco ora arriva grazie segretario praticamente alcuni aspetti che sono stati superati o comunque sono stati in qualche modo bypassati attraverso 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 altre misure di questa amministrazione nei mesi scorsi la le proposte che il nostro gruppo faceva era quella di istituzione di un bonus energia attraverso di un accontrollamento nel bilancio di previsione con cui il comune contribuisca a ridurre la spesa sostenuta degli utenti per la fornitura di energia elettrica e gas la possibile fornitura con la stella energia per per ridurre i costi ma questo sappiamo che sarà molto difficile anzi impossibile praticare e mentre ci potrebbe essere soprattutto per le aziende una ci sono ci sono stati degli interventi governativi per questo e poi tutte quelle misure che erano già presenti nei due ordini del giorno delle liste civiche della maggioranza del PD o della maggioranza adesso non ricordo per quanto riguarda tutte quelle buone pratiche legate alla riduzione del consumo di energia elettrica e anche legato al riscaldamento degli edifici pubblici quali la riduzione di un grado della temperatura lo spegnimento degli impianti domestici al primo aprile l'uso di prodotti a basso consumo energetico anche a livello domestico e la riduzione la riduzione dell'orario dell'accensione della pubblica eliminazione poi come già fatto nel comune da comune di Firenze e da altri creare un fondo privato che si chiama che l'hanno chiamato adotta una bolletta dove confluiscono attraverso un'azione di solidaristica i versamenti di private a destinare a famiglie e anziane in difficoltà a caso dell'emergenza energia e quello a quale noi teniamo particolarmente è la promozione e la diffusione della cultura del risparmio energetico promuovendo le buone pratiche i corretti comportamenti per un efficiente utilizzo delle risorse energetiche domestiche riducendo gli sprechi l'acqua gli sprechi di acqua di luce e gas anche attraverso la realizzazione di un vadomecimo sul risparmio energetico da inviare a tutte le famiglie ad esempio in questo momento mi sembra che se non erro con il numero di cinque torri che ci è arrivato ci ha legato uno stampato della stea se non erro sulla differenziazione corretta lo stesso ci sono dei manifesti in città appunto per informare per una corretta differenziazione di incentivare di promuovere i modelli di mobilità sostenibile che implica un minore impiego dell'automobile l'utilizzo di mezzi pubblici di car sharing e car tooling nonché una dichiara e concreta politica verso la transizione elettrica di questo ne abbiamo già parlato in questo consiglio il punto che andremo a trattare tra poco ovvero sullo studio preliminare per il piano il piano urbani il piano urbanistico comunale potrebbe essere anche sarà mi auguro un ottimo strumento per arrivare anche a una minore impatto a livello della mobilità e verso una scelta che sia sempre più green e meno inquinante combustibili fossili quindi capisco che alcune cose sono ormai passate riguardo alla ai punti contenuti nelle proposte comunque credo che di fatto anche riguardo alle notizie di oggi su un certo aumento insicuro aumento del gas la riduzione della fornitura del 15% da parte della russa d'Italia e tanti altri elementi internazionali ma anche a livello interno legato ad una serie di scelte diciamo sia di ordine privato che pubblico porteranno sicuramente questo aspetto vero del caro energia sempre tra i principali problemi principali argomenti con cui l'amministratore pubblico si dovrà confrontare per far sì che le famiglie possano superare questi stadi di importante difficoltà grazie grazie consigliere Ginnetti c'è un emendamento su questa mozione passo la parola intanto al consigliere Gallina Fiorini per la presentazione e poi ve lo faremo vedere eccolo qua lo mettiamo lo abbiamo messo anche a video prego consigliere Gallina Fiorini un attimo prego sì semplicemente insomma per ricordare che c'è già un ordine del giorno approvato e quindi con questa integrazione chiediamo che si tengano chiaramente in considerazione già tutti i contenuti del precedente ordine del giorno e per cui si sommino a questa mozione che andando nella stessa direzione chiaramente può accorpare e aggiungere quanto già approvato dal consiglio comunale grazie consigliere Gallina Fiorini quindi possiamo aprire la discussione sull'emendamento che ci ha appena presentato il consigliere ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti in merito all'emendamento prego infatti l'avevo con un collega l'avevo detto praticamente che appunto erano state presentate alcune misure che erano state approvate quindi di fatto sono superano per certi aspetti altre la nostra proposta quindi va bene certamente faceva parte anche della mia presentazione quindi un emendamento che assolutamente non toglie ma tra forza a questo proposito visto che ho la parola un minuto presidente potrebbe essere in futuro auspicabile anche se questo non è previsto a regolamento ma potrebbe essere una scelta volta per volta volta per volta della conferenza del capigruppo che quando si parla di una c'erano due due ordini del giorno del diciamo della minoranza delle liste civiche della maggioranza su questo argomento quindi si poteva trattare questa mozione anche insieme e quindi fare un auspicabile documento unico io mi ero espresso su questa cosa questo è un argomento importante che riguarda tutti noi quindi se tutte le forze presenti in comune si unissero per questa come altre che verranno per far sì che ci sia un documento unitario potrebbe essere una cosa che qualifica sia nel contenuto ma anche nella forma grazie grazie consigliere Ginnetti non ci sono altre richieste di intervento quindi chiudiamo la discussione e apro le dichiarazioni di voto sull'emendamento chiudono le dichiarazioni di voto apriamo la votazione in merito all'emendamento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Manca il voto della consigliera Donia, del consigliere Ricci, del consigliere Simoncini e del consigliere Sabatini Non riesco a votare, voto così, mi astengo, grazie Grazie consigliera Donia Consigliere Simoncini La consigliera Donia ha votato No Per un attimo consigliera Donia mi risultava che avesse votato, ecco anche adesso, consigliere Simoncini è presente Ma si vede a video Ma lui c'è in presenza Non è in video Quindi consideriamo il consigliere Simoncini assente 16 favorevoli, 1 contrari, 5 astenuti L'emendamento viene approvato Adesso possiamo continuare con la discussione in merito alla mozione che è stata emendata 16 favorevoli Quello che abbiamo visto L'ha anche presentato il consigliere Gallina Fiorini 16 favorevoli Consigliera Bordoni Se va su il portale Clicca sull'allegato C'è anche l'emendamento caricato Comunque eccolo Nelle premesse dopo il periodo che termina con i nostri concittadini Aggiungere quello che legge lì Tenuto conto anche delle misure di contrasto al caro bollette Inserite nell'ordine del giorno del gruppo consigliare del Partito Democratico Già approvate dal Consiglio Comunale lo scorso 29 marzo 2022 Comunque lo stiamo stampando Potete intervenire per la discussione Non ci sono richieste di intervento Apriamo le dichiarazioni di voto Intanto diamo la parola al consigliere Ginetti Per le conclusioni Prego Prego Grazie Presidente Anzi mi scusi Che ho dimenticato all'inizio Che la mozione è presentata anche con la sua firma E quindi permette appunto Di come consigliere Di poter anche accedere a questa prerogativa Per il resto Non ho nulla da aggiungere Rispetto a quanto ho detto precedentemente Noto che sia Che si tratta Di un argomento La cui importanza è condivisa da tutti quanti Ritengo che su questo aspetto Vada sempre mantenuta Una vigile attenzione E nell'ottica anche Dei futuri Le future decisioni I futuri aumenti Si possa sempre cercare Di tutelare Le fasce più debole Più deboli della popolazione Grazie consigliere Ginetti Sì Guardi Ce l'ha il consigliere Ginetti Se glielo passa Potete prenotare Per dichiarazione di voto Consigliere Consigliere Alessandrini Prego Sì il mio sarà naturalmente Un voto favorevole Ringrazio naturalmente Il consigliere Ginetti Per questa opportunità Per questo strumento Che sta mettendo a disposizione Del consiglio comunale Ovviamente Indipendentemente Poi dal fatto Comunque dagli atti Che siano stati presentati Sia dalla maggioranza Che dall'opposizione Concordo Che questa è probabilmente La vera sfida Di fronte alla quale Ci troveremo tutti quanti Per il futuro Perché Per certi versi È l'altra faccia Da un lato Dalla transizione ecologica E dall'altra Dalla globalizzazione Sappiamo perfettamente Che il carabollette È una cosa Che ormai ci portiamo dietro Lamento vertiginoso E in alcuni casi Assolutamente indegno Perché secondo me Frutto solo della speculazione Ce lo portiamo dietro Ormai da sei mesi Ben prima Quindi dell'avvio Della guerra in Ucraina E dall'altra parte Purtroppo In questo momento Pur essendo perfettamente Consapevoli Che per il futuro Ci si prospettano Dei tempi e degli anni Decisamente bui Oggettivamente Non abbiamo nessun tipo Di alternativa E non c'è stata proposta Nessun tipo di alternativa Perché Ad oggi Sappiamo quello Che non potremo utilizzare Sappiamo quali saranno Le fonti energetiche Che non potremo utilizzare E sappiamo soprattutto Quanto aumenteranno E quanto Diverranno sempre più Proibitive Degli aspetti Ora Io mi rendo perfettamente conto Che Le bollette In generale Comunque le utenze Sono sempre E sono sempre state Un problema Una problematica Significativa Soprattutto per le fasce Più deboli della popolazione Però Oggettivamente Noi oggi Ci stiamo trovando Di fronte ad una situazione In cui Persone Non meno abbienti Ma persone assolutamente In grado Fino all'altro ieri Di onorare Questi Questi che sono dei debiti Alla fine Nei confronti Delle agenzie di distribuzione Oggettivamente Non sanno più Cosa vuole fare Proprio per questo motivo Sarà un voto favorevole E c'è ovviamente La speranza Però che tutti questi atti Tutte queste emozioni Che stiamo votando Poi si potessero Concretizzare In qualche cosa Pur nei limiti Che tutti conosciamo Delle competenze Di un'amministrazione Comunale Ma che si Concretizzassero In qualche cosa Di serio E soprattutto Reale e immediato Per i nostri concittadini Grazie Consigliere Alessandrini Ha chiesto la parola Il consigliere Gallina Fiorini Per dichiarazione Di voto Prego Grazie Presidente Il voto Il voto del partito Democratico Sarà favorevole Mi auguro Di tutto il consiglio comunale In modo tale Da insomma Adempiere Quell'auspicio Di unitarietà Che diceva prima Il collega Ginetti Anche se non di partenza Se non altro Di arrivo Al voto finale Come diceva il consigliere Alessandrini Chiaramente Qui siamo Di fronte A una problematica Anche geopolitica Insomma Chiaramente Molto più grande Del contesto Locale Però Giustamente Diceva Qualcosa di Magari piccolo Ma concreto Si può fare E questa mozione Insieme al nostro Ordine del giorno Già presentato E votato Secondo me Qualche risultato Già L'ha ottenuto Nel senso Che l'amministrazione Comunale Ha portato avanti Alcune istanze Ad esempio Si parlava Di un bonus Energia Da prevedere Nel bilancio Di previsione Noi il 31 maggio Abbiamo votato Il bilancio Di previsione Dove Sono previsti Appunto 250.000 euro Dedicati A questo bonus Energia Che dovrà andare A finanziare Bandi Per Famiglie Attività produttive Associazioni Sportive Tutti coloro Che hanno subito Maggiormente I rincari Delle bollette E io mi auguro Che ci sia anche Una certa facilità Nel poter accedere A questi bandi Perché poi Questo è un po' Sempre la barriera Di ingresso Ci sono soggetti Persone che sono Abituati A fare Domande E quindi Ad accedere Attraverso l'ISEO Piuttosto che Attraverso altre forme Altri invece Non l'hanno mai fatto Sono resti Si trovi Si trovi in una condizione Nuova E sta anche a noi All'amministrazione Comunicare bene E spiegare Come accedere Ad eventuali bandi Si diceva Dell'efficientamento Anche energetico Ebbene L'amministrazione Ci ha detto Nell'ultimo bilancio Constitutivo Dove c'è Un avanzo Importante Cospicuo Che una parte Di quell'avanzo Potrà essere Impiegato Per investimenti In risparmio energetico In pianti ad esempio Fotovoltaici Da installare Sui tetti Degli edifici pubblici Palestra eccetera Questo oltre che Andare verso Un efficientamento Energetico Consentirà di avere Dei risparmi Di spesa corrente Per il bilancio Comunale Da investire Poi anche qui In aiuto Alle famiglie Io spero che Da parte del Consiglio comunale Ci sia più interesse Nel Al tema Del caro Bolletti Rispetto a quanto State dimostrando Grazie Consigliera Bordoni Per l'interesse Che sta dimostrando Al tema Del caro Bolletti Il nostro voto Sarà favorevole Grazie Consigliere Gallina Fiorini No c'è La consigliera Bordoni Consigliera Bordoni Adesso Consigliera Bordoni Consigliera Bordoni No Consigliera Bordoni Consigliera Bordoni Per favore Al microfono spento Tanto non la sente nessuno Io la ringrazio Per favore Non Allora Avete i microfoni spenti Parlo solo io Perché Perché devo Devo lasciarvi la parola E in questo momento Non gliela lascio Perché le voglio dire Che le stiamo Fornendo La delibera Adesso Se A No 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 Se mi Guardi le lascio Le accendo il microfono Per spiegare Cosa ha detto il consigliere Gallina Fiorini Un attimo Gallina Fiorini Mi ha ripresa Perché non era attento Sul caro bollette Quando il caro bollette È un tema Molto Sentito Anche Nelle liste civiche Quindi io vorrei Invece Mi stavo proprio Interessando Sull'emendamento Che voi avete presentato Perché siete abituati Ad emendare Gli atti Che i consiglieri Di minoranza vanno E quindi Quando fate gli emendamenti Io chiedo Che l'emendamento Sia Sia presentato In tutti i scranni E non solo A video E siccome qua Nell'emendamento Viene riportato Un ordine del giorno Del 29 marzo Chiedo L'ordine del giorno Del 29 marzo La delibera Che deve essere A disposizione Grazie Quindi l'attenzione Era anche Attenta Perché vogliamo Votare In maniera consapevole Un atto Sul caro bollette Grazie Grazie Consigliera Bordoni Le delibere Sono tutte pubblicate E Grazie Non La Grazie Grazie a tutti. 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 al consigliere Ginnetti per dichiarazione di voto. Prego. Il mio voto sarà favorevole. Grazie sindaco per aver raccolto questa proposta. Sicuramente ne guadagneranno tutti quanti. Credo che il documento potrebbe essere, presidente, elaborato all'interno della conferenza della conferenza di voto. Se siamo tutti quanti d'accordo su questa procedura con l'unico documento che sta evadutato. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Consigliera Bordoni, prego. Sì. Dunque il nostro sarà un voto d'astenzione in maniera coerente con l'altro appunto ordine del giorno che era stato approvato il 29 marzo scorso. Perché? Perché l'ordine del giorno che aveva messo il PD era un ordine del giorno che non andava a completare o comunque non andava a sostegno assolutamente eh di eh quelle invece attività eh e di quelle manovre che invece sarebbero state utili. Eh oggi lo andiamo a implementare con l'ordine del giorno del consigliere Ginnetti che sicuramente è più diciamo eh eh rende un pochino più l'idea grazie ok rende più l'idea eh no delle delle attività che comunque andrebbe fatta ma colgo ehm invece in maniera eh positiva il fatto di eh fare una riunione di capigruppo e fare un unico atto condiviso mettendo tutte le nostre idee. Noi abbiamo presentato in data 29 mi sembra marzo anche noi un ordine del giorno che è stato eh diciamo non eh accolto eppure era un ordine del giorno con delle proposte molto interessanti a sostegno dei cittadini. Quindi vogliamo ci asteniamo per queste motivazioni e quindi attendiamo eh una riunione dei capigruppo per mettere in piedi un ordine del giorno condiviso con tutti perché effettivamente il caro bollette come la sanità è una di quelle tematiche che non ha colore politico ma non possiamo votare a macchia di leopardo dobbiamo uscire da questo civico consenso con un atto unico e condiviso quindi rimandiamo se è possibile eh quindi non cercando di non votare nemmeno quest'atto lo rimandiamo eh a un atto eh che sia completo. Grazie. Grazie consigliera Bordoni ha chiesto la parola il consigliere Simoncini prego. Allora mi sentite? Sì. Sì beh allora io invece voterò contro questo ordine del giorno perché io mi sento totalmente in linea strano a dirsi con quello che ha detto il sindaco cioè su questi temi dobbiamo fare fronte comune però non è possibile che l'ordine del giorno che propone Ginnetti si vota l'ordine del giorno che propone il PD si vota anche se quello del PD mi sembrava abbastanza deboluccio cioè con proposte un pochino deboli e comunque non diciamo in che non incidevano effettivamente nelle tasche di cittadini presenta un ordine del giorno molto articolato con tante proposte anche innovative con per esempio i fotovoltaici nel nei tetti del centro storico fuori di un di un raggio di cinquanta metri da edifici vincolati oppure anche il rinnovo del parco macchine comunale da sostituire con mezzi elettrici naturalmente non in un anno ma nell'arco di un periodo un po' più lungo noi avevamo proposto un quinquennio allora quello deve essere bocciato perché deriva dalle liste ciniche cioè così io condivido in pieno quello che ha detto Pugnaloni sulla necessità a volte di mettersi intorno a un tavolo tutti i capigruppo portare ognuno la propria esperienza la propria proposta eccetera condividerla con gli altri però non è possibile che le gli ordini del giorno che sugli stessi argomenti arrivano dalle liste civiche debbono essere ricettati quelli che arrivano da forze di minoranza che però ci conviene tenerle buone come progetto osimo di Achille Ginnetti e allora quelle gliele approviamo anzi gliele firmiamo pure gliele firmiamo pure cioè così non va bene io mi sento grazie per la dichiarazione di voto io mi sento offeso ed umiliato da questo vostro atteggiamento ed è per questo ed è solo per una ragione di protesta politica che voto contro grazie grazie consigliere Simoncini non ci sono altre dichiarazioni di voto possiamo passare alla votazione grazie a tutti manca il voto del consigliere Ginnetti e del consigliere Sabatini consigliere Sabatini è presente il consigliere Sabatini per la votazione consideriamo allora assente il consigliere Sabatini 18 favorevoli 1 contrario e 3 astenuti chiudiamo la parte dedicata all'interrogazione interpellanza e mozioni perché abbiamo superato l'ora dall'inizio del consiglio comunale e passiamo direttamente al punto numero 3 chiamiamo un attimo i tecnici abbiamo concluso la parte delle mozioni perché abbiamo superato l'ora consigliere Bordoni abbiamo superato l'ora dall'inizio del consiglio comunale chiamo i tecnici se può venire la dottoressa Vecchietti allora a questo punto lo presenta il sindaco poi daremo la parola ai tecnici per un'ulteriore spiegazione era passata ho fermato il tempo quando siamo stati fermi e dopo con ulteriori già mancavano 5 minuti con gli ulteriori interventi abbiamo superato l'ora allora passo la parola adesso al sindaco all'assessore passo la parola all'assessore Pagliareci per la presentazione prego assessore buon pomeriggio a tutti i membri del consiglio e agli concittadini e concittadini che sono in diretta streaming oggi viene presentato e approvato il consiglio comunale il documento programmatico che costituisce proprio lo strumento fondamentale con il quale l'amministrazione vuole avviare la revisione dello strumento urbanistico vigente del 2008 questo a seguito infatti a seguito di un'analisi approfondita e dello stato attuale del territorio vengono definiti così gli indirizzi strategici per l'adozione del piano urbanistico che porterà questo all'adozione e vogliamo raggiungere questo obiettivo entro la fine dell'anno 2022 per la definizione del quadro conoscitivo e quindi la relativa formulazione del documento abbiamo avviato un ufficio di piano e un aggiornamento anche della cartografia con rilievo aerofotogrammetrico infatti non è mai stato presente all'interno della struttura del comune di Osimo un ufficio specifico proprio per quello che riguarda gli aspetti urbanistici e quindi ringrazio vorrei ringraziare la dirigente Vecchietti per l'importante collaborazione e supporto che ci ha dato sia a me che tutta l'amministrazione ma in particolare vorrei anche nominare sia il dottore architetto Giovanni Marinelli e l'ingegnere Luca Domenella che fanno parte proprio dell'Università Politecnica delle Marche del Dipartimento Simau Scienze e Ingegneria della Materia dell'Ambiente ed Urbanistica della Facoltà di Ingegneria di cui abbiamo siglato nel gennaio 2021 un accordo di collaborazione che ci ha permesso di avvalerci di un ente terzo tecnico con competenze sia specialistiche che interdisciplinari un ringraziamento vorrei anche rivolgerlo al geometra Dario Santa Giustina che fa parte della struttura comunale e al resto dello staff la dottoressa Ilaria Marini e l'architetto Chiara Pasqualini che sono giovani ragazzi che siamo riusciti ad ottenere grazie alla partecipazione a un bando regionale il team inoltre comprende anche una serie di professionisti, spero di elencarli tutti che sono dei professionisti esterni di cui hanno dei specifici profili tecnici di Massimo Tenori il geologo Fabio Vita per gli aspetti che seguirà gli aspetti proprio geologici, geomorfologici la dottoressa Carla Bambozzi per gli aspetti botanici e vegetazionali e poi abbiamo incaricato per quello che riguarda il coordinamento della vase e degli aspetti acustici la dita CAE Holding di Ancona nel processo di formazione del documento si è ritenuto necessario l'aggiornamento come dicevo delle cartografie con un rilievo aerofotogrammetrico questo ci ha dato una restituzione della ortofotocarta metrica georeferenziata contenente i dati dell'esistente quali volumetrie, tipologie costruttive, altezze edifici e quindi una situazione aggiornata e attuale e reale del nostro territorio su base QGIS questo aggiornamento sicuramente era un primo passo da fare e da compiere per non incorrere poi in una previsione di pianificazione in contrasto con lo stato di fatto esistente a differenza di quello che era stato poi fatto durante la redazione del piano regolatore del 2008 in cui è stato redatto su cartografie datate del 1999 il percorso inoltre si è anche articolato con un approccio metodologico integrato da azioni di partecipazione con diversi portatori e portatrici di interesse, ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati e tutti gli attori presenti e operanti sul nostro territorio tale sinergia ci ha dato la possibilità di rilevare i bisogni e le esigenze prioritarie che la città ha bisogno con una certa sensibilizzazione e coinvolgimento e soprattutto un confronto diretto, continuo e trasparente con la cittadinanza e da qui abbiamo avviato importanti progetti sia il bando esplorativo preliminare alla revisione che ci ha dato la possibilità e ha dato la possibilità ai cittadini di presentare proposte e distanze e di queste ne sono arrivate più di 150 di cui il 50% riguardano la retrocessione di aree edificabili e la classificazione delle aree come zone agricole altro importante attività che è stata svolta nell'estate 2021 l'arcipelago dei contesti e tramite la quale sono stati effettuati sopralluoghi tavoli tecnici e forum pubblici in cui si sono sviluppate con la cittadinanza momenti di ascolto e confronto in grado di fornire dei contributi importanti e propositivi all'attività proprio di progetto e alla stesura del documento che andiamo ad approvare nelle Marche la legge che norma l'urbanistica è la legge 34 del 92 e spetta proprio alla provincia esprimere un parere di conformità sui piani regolatori generali dei comuni e anche sulle varianti in relazione proprio ai piani sovraordinati il PPAR che è il piano paesistico ambientale regionale il PAI, il piano dell'assetto idrogeologico e il PTC che è il piano territoriale di coordinamento di competenza provinciale e questo esercizio del parere di competenza è stato proprio assegnato dalla legge a valle del processo pianificatorio come una sorta di verifica delle scelte operate e nella stesura dello strumento urbanistico e quindi la provincia esprime un parere di conformità come è previsto dall'articolo 26 e precisamente dai comi 3 e 4 della legge regionale il nostro piano regolatore vigente invariante al PRG del 99 è stato adottato in consiglio comunale con atto numero 181 del 2005 e come è previsto dall'articolo 26 sono state poi avviate le pubblicazioni e le osservazioni in cui ha seguito poi l'adozione definitiva in consiglio comunale la variante è stata poi trasmessa alla giunta provinciale per la posizione del parere secondo le previsioni degli indirizzi del PPAR del PAI e il PTC la provincia ha espresso un parere di non conformità del nostro piano regolatore richiedendo delle integrazioni e delle precise precisazioni delle precisi rilievi alla suddetta varianza sospendendo i termini del procedimento e il consiglio comunale ha ritenuto di doversi adeguare solamente in parte ai rilievi espressi dalla provincia e preso atto della volontà manifestata da parte della provincia del comune di non volersi adeguare pienamente alle prescrizioni ha espresso un parere definitivo di non conformità il consiglio comunale ritenendo invece di aver ottenuto un parere favorevole per effetto del silenzio assenso ha approvato la variante al piano regolatore e di conseguenza la provincia ha impugnato tale deliberazione innanzi al tare e ancora oggi si attende il giudizio definitivo e questo quindi tutto questo ha portato ad uno stallo all'interno dell'amministrazione tecnica e amministrativa che ha comportato notevoli ripercussioni sia dal punto della programmazione economica ma anche rallentato lo sviluppo del nostro territorio determinando il ricorso a procedimenti di varianti puntuali e meccanismi e procedure di attuazione diretta con conseguenti ritardi sulle procedure a discapito sempre del cittadino e del privato oltre a ciò da un'analisi di confronto che è stata effettuata dal gruppo del lavoro e pertanto tecnica e dettagliata dei due strumenti urbanistici del 1996 e quello del 2008 si è potuto diventare ulteriori criticità noi abbiamo un territorio con una superficie di 10.600 ettari circa il 10% pari a 1.100 ettari corrisponde alla superficie comunale urbanizzata il 5% di questa superficie totale che corrisponde a 545 ettari è la superficie soggetta a pianificazione attuativa di previsione che corrisponde agli ambiti di trasformazione noi abbiamo 265 ambiti che sono classificati in nuove tipologie secondo ai sensi delle norme di settore e delle vigenti norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente del 2008 troverete tutti questi ambiti nell'Atlante che è allegato al documento programmatico e sono stati rappresentati schede che rappresentano sia per ogni area lo stato di fatto e sia anche quello che era previsto o le previsioni del secondo piano regolatore vigente e che cosa è stato da questa analisi che cosa è uscito che su 265 ambiti sono stati attuati solamente 114 ambiti cioè a una quantità pari al 43% di cui il 39% corrisponde al piano regolatore previgente del 1996 e solo il 4% è stato attuato con il piano regolatore vigente del 2008 e stiamo parlando comunque di un tempo di 14 anni 14 anni dal 2008 che è stato approvato in 26 anni invece su 545 ettri cioè su un totale di 265 ambiti di trasformazione non è stato attuato il 57% quindi 151 aree sono comunque sia non si sono sviluppate e che corrisponde proprio a una quantità pari a più di 300 ettri di terreno e di questa quantità non attuata sotto ricorso abbiamo 58 aree su 151 pari al 38% e da qui quindi possiamo dire che il 62% la parte rimanente del non attuato è perché comunque i cittadini non hanno voluto sviluppare non hanno voluto attuare queste aree e questa è una delle più importanti criticità insieme al contenzioso ma un'altra pensiamo proprio agli ATS gli ambiti di trasformazione strategica che corrispondono a una superficie di 140 ettari la più estesa tra tutti gli ambiti ed è stato rilevato che su 32 ATS solamente 3 si sono attuati e questo ci fa capire che è stato non si sono attuati in quanto un meccanismo di difficile attuazione in quanto vincolava più proprietari nella realizzazione di grandi aree di espansione e che dovevano finanziare la grande viabilità sud infatti la maggior parte di queste aree sono oggetto di richieste di retrocessione dei cittadini alla luce di queste suddette criticità nonché al mancato anche raggiungimento dell'incremento demografico previsto dal piano regolatore vigente in cui si prevedeva un raggiungimento di 45.000 abitanti l'attuale documento programmatico ci ha consentito grazie a un'analisi dettagliata di definire gli obiettivi strategici in cui il nostro punto fermo puntare non più alla quantità all'espansione ma alla qualità la qualità fatta di benessere la qualità puntando al benessere agli bisogni e alle esigenze dei cittadini valorizzando il paesaggio, le risorse naturali, servizi, resilienza ma soprattutto rigenerazione, rigenerazione e qualità dell'abitare con l'obiettivo di riqualificare la città e il patrimonio esistente in quanto il suolo non è solamente un bene comune ma anche una risorsa non rinnovabile e svolge funzioni importanti per la prevenzione del disesto idrologico e la mitigazione dei cambiamenti climatici uno di questi obiettivi che ci ha portato l'abbiamo già vista la sua concreta attuazione modificando i regolamenti edilizio comunale con la riduzione di ione e una scontistica che porterà un vantaggio a una scontistica dal 50 fino al 90% sempre nell'ottica della rigenerazione e come previsto dal PNRR il piano nazionale di ripresa e resilienza vogliamo sviluppare strumenti attuativi che siano semplici, comprensibili come permessi a costruire convenzionati che andranno ad eliminare i modelli attuativi di ambiti di trasformazione strategici inoltre un altro tema fondamentale e importante come obiettivo cardine dell'amministrazione sarà l'infrastrutture in cui punteremo la grande viabilità la variante a nord che sarà una strada di collegamento tra le due province la provincia di Ancona e la provincia di Macerata in cui dovrà essere previsti importanti aree di compensazione ambientale e di questo impegno che dovrà essere condiviso con gli enti sovraordinati in quanto permetterà il colgamento delle due province altro tema importante sarà la mobilità la mobilità che dovrà essere sostenibile cioè una mobilità urbana in grado di diminuire gli impatti ambientali sociali ed economici e voglio concludere dicendo che il nostro obiettivo sarà quello di portare in adozione il piano urbanistico comunale entro l'anno massimo i primi mesi dell'anno 2023 in cui dovrà essere un piano condiviso in cui dovrà essere un piano innovativo e allo stesso tempo partecipato perché la cittadinanza e lo strumento urbanistico che verrà approvato e verrà portato in adozione dovrà essere uno strumento di tutti per una città migliore soprattutto con una qualità che è una qualità dell'abitare delle persone spero di essere stata chiara il più possibile e vi ringrazio per l'attenzione grazie assessore Paglierecci adesso volevo passare la parola all'architetto Vecchietti però prima facciamo una prova se da remoto la sentite prego buonasera buonasera avete sentito da remoto? sì io sì perfetto grazie allora do la parola all'architetto Manuela Vecchietti per presentarci in maniera tecnica questa delibera prego architetto allora buonasera io faccio un'introduzione brevissima perché già l'assessore ha raccontato molto delle fasi che sono state svolte in questo anno e poi l'architetto Marinelli dell'Università Politecnica delle Marche scorrerà il documento in maniera molto dettagliata e ce lo racconta in maniera dettagliata io volevo solo puntualizzare una cosa siamo appunto siamo oggi ad approvare il documento programmatico che è la sintesi è il punto di arrivo di un percorso fatto in un anno di attività del quale abbiamo ricostruito un quadro conoscitivo molto dettagliato abbiamo ascoltato la cittadinanza e i bisogni della cittadinanza e li abbiamo messi sentite li abbiamo messi a sistema in questo documento però agli indirizzi i primi indirizzi del piano regolatore e quindi è un punto di arrivo per appunto questa ricognizione dello stato di attuazione ma è l'inizio dell'attività è proprio l'indirizzo per l'attività del gruppo di lavoro che il gruppo di lavoro sta elaborando sta ancora elaborando volevo dire che questo documento è stato già raccontato e presentato alle consulte perché comunque tocca temi non solamente urbanistico edilizia ma ma ci dobbiamo spostare diteci cosa dobbiamo fare ok prende un po' meglio va bene prima di portarlo in consiglio comunale l'abbiamo presentato alle consulte perché proprio perché è un punto anche di inizio di questa attività noi con questo documento con l'elaborazione di questo documento chiediamo un contributo anche ulteriore agli stakeholder e a tutti i soggetti che sono competenti negli aspetti che il quadro che il documento programmatico tocca e mette a sistema passo la parola all'architetto Marinelli dell'università politecnica delle Marche grazie buonasera a tutti ditemi voi dove devo stare perché dove mi metto do le spalle a qualcuno quindi sto più o meno in me allora intanto ringrazio tutti voi per l'attenzione questa sera e il gruppo di lavoro che è seduto alle mie spalle che è pronto poi a argomentare a rispondere eventuali quesiti gli aspetti che competono a un documento urbanistico e che interessano poi alla pianificazione sono come sapete molti e sono intracciati tra loro quindi la complessità di questi aspetti deve essere trattata sempre tenendo molti di questi elementi non è fastidiosissimo però sì è che ci vuole superpoteri per arrivare provo così quindi il documento programmatico come indicato anche dall'architetto Vecchietti rappresenta un momento di condensazione degli indirizzi preliminari del piano ma contengono anche degli elementi di valutazione di contesto il documento quindi è strutturato in diverse sezioni oggi pomeriggio ovviamente non entreremo nel merito di tutte le questioni a meno che non è la vostra volontà e quindi noi siamo qui apposta ma vorremmo illustrarvi darvi delle chiavi di lettura del documento il documento rappresenta cristallizza il lavoro fatto dal gruppo di lavoro che ho avuto insieme all'architetto Vecchietti la fortuna di poter fino adesso coordinare e crescere insieme a loro e vorremmo che fosse un documento che il comune di Osimo e le sue diverse portatori di interesse e eccezioni faccia proprio quindi non mi dilungherei oltre ma cercherei di farvi vedere brevemente la struttura del documento cercando di evitare le differenze elettromagnetiche il documento rappresenta quindi un punto di partenza ma anche le traiettorie per quello che sarà lo sviluppo urbanistico vi anticipo questo per chi ha avuto già modo di vedere il documento vi ho subito conto per chi non ha avuto ancora la curiosità di guardare il documento troverà all'interno molti aspetti che sono rispetto al tema della pianificazione quindi il disegno dell'assetto del suolo del telaio infrastrutturale moltissimi elementi aggiuntivi che sono elementi importanti emersi dalla fase di partecipazione che trovate argomentata e descritta all'interno del documento quindi il report che trovate allegato al documento programmatico costituisce un appendice ma è parte integrante del documento e come dire approfondisce un tema specifico che poi anche su questo vorrei darvi alcune chiavi di lettura quindi per andare veloci trovate nel documento due grandi sezioni la prima analitico interpretativo cioè la volontà di fare un punto di partenza appunto uno stato delle condizioni per capire cosa per capire con il piano urbanistico dove poter atterrare quindi questi elementi che spesso sono riconducibili ad elementi analitico conoscitivi in realtà rappresentano un punto importante sul quale poggiare e poi le scelte successive il documento quindi articolato nelle prime tre sezioni ricostruendo che cosa guardandoci in alcune situazioni guardandoci anche indietro quindi la parte del percorso del piano è suddiviso in tre grandi elementi lo scenario legislativo definito in divenire perché come sapete anche voi il confronto sulle allegge in corso e gli elementi normative fanno ormai parte strutturale della discussione sulla questione urbanistica in questo momento è acceso l'entusiasmo su questa nuova riforma della legge regionale e quindi il piano tiene in considerazione queste evoluzioni non si sente Bruno mi confermi che scusate quindi dicevamo il piano tiene in considerazione questi elementi ma viene costruito con la normativa vigente quindi ai sensi della 34 del 92 delle evoluzioni normative vigenti e strizza l'occhio guarda a quelli che sono i potenziali elementi di innovazione introdotto dalle norme in corso la seconda sezione la città che cambia è un report che raccoglie che cosa le stanze che sono pervenute in questo periodo di gestazione del piano alcune di questi elementi già sono contenuti in una fase di raccolta preliminare sarà l'ora e quindi contiene questa sezione contengono che cosa il regesto non la disamina delle singole istanze pervenute ma un report che tiene in considerazione quali sono gli elementi che sono emersi da questa discussione attivata dal basso quindi da chi ha interesse a fare cosa a portare modifiche allo strumento urbanistico questo non significa che il documento prende atto e raccoglie tutte le istanze e le recepisce ma sarà parte del documento nella fase successiva dell'attività che faremo che cosa la parte istruttoria di questi elementi un terzo elemento fondamentale è quello che veniva richiamato anche dall'assessore legato al rilievo cartografico non è banale non è scontato perché spesso si come dire si dà per scontato la conoscenza del territorio questo in realtà è un elemento fondamentale sul quale appoggiare con innovazione perché è un rilievo di carattere innovativo che pochissimi comuni nelle marche hanno forse qualcuno nel SIGMA ma non tutti e che quindi rappresenta che cosa la fotografia di come il territorio è cambiato quindi punto di partenza ma anche che cosa uno spunto sul quale poggiare le previsioni vigenti dello strumento e verificare se queste aderiscono ancora ai contesti il terzo punto è proprio rivolto invece al livello di attuazione della pianificazione vigente dei caratteri che la pianificazione vigente ha assunto nel tempo perché un piano sì nella sua dimensione viene cristallizzata nel momento di approvazione finale ma poi c'è tutta la fase di gestione degli strumenti e quindi che cosa succede con questo come dire gestendo perché un piano regolatore generale quindi regolando il disegno del suolo che cosa succede nel tempo qui la sezione è articolata in quattro parti il come dire lo sguardo in questo caso è allo strumento vigente e come ogni buona eredità al nonno diciamo al padre in questo caso il nonno del nuovo piano si guarda al tema che conoscete tutti benissimo in questa sede che è quello del contenzioso con la provincia andando a valutarne gli elementi e come dire le criticità ma anche per certi versi di opportunità che andare a lavorare su questo tema come dire crea le condizioni e sono opportunità di riflessione interessante proprio perché la provincia introduce delle chiavi di lettura che troverete poi all'interno del documento l'aggiornamento cartografico degli lavorati del PRG quindi che cosa abbiamo fatto come vi dicevo prima abbiamo riadattato un disegno del suolo che veniva da piano progresso su una condizione attuale e poi siamo andati a valutarne che cosa i livelli di attuazione qual è la capacità nel tempo negli anni di questo strumento di incidere sul territorio in questo report trovate dei dati interessanti alcuni sono stati nel dettaglio anzi molti direi sono stati anticipati dall'assessore se volete poi possiamo entrare nel merito di alcuni grafici non è un documento completamente scritto ma so che l'avete letto con attenzione e avete trovato anche dei refusi a pagina 62 che è 60 60 con la copertina però so 60 quindi in questa sezione il livello di attuazione si avvale il documento di una parte integrativa che è l'Atlante delle trasformazioni anche qui vi chiedo un attimo di pazienza non capita sempre di avere un consiglio comunale quale presentare dei documenti di definizione di un nuovo piano vorrei cercare se riesco a condividere complicato vorrei condividere questo secondo documento che è parte integrante quindi approvate anche questo all'interno della seduta di questo pomeriggio ormai sera che è l'Atlante delle trasformazioni questo vorrei darvi delle chiavi di lettura perché è un documento tecnico è costituito da delle schede oltre 250 schede l'avete visto lo so ma magari qualche chiave di lettura per chi non l'ha visto con attenzione trovate indicato nel lato sinistro si vede pochissimo chi è da casa lo vede meglio una fotografia del rilievo del territorio estratto dalla planimetria che discutevamo prima sul lato sinistro quindi come è evoluta e come si è attuata la trasformazione nel lato destro trovate la cartografia che ha originato quella scelta e che ne conteneva i parametri e le indicazioni progettuali quindi in questo caso la trasformazione prevista che era un'area di espansione residenziale vedete nella mappa nel rilievo dell'epoca solo alcuni fabbricati e la trovate invece completa di edifici ne riconoscete i tetti i giardini le strade tecnicamente trovate nella parte bassa della scheda che cosa gli elementi normativi che hanno portato a questa trasformazione sul territorio le diciamo le destinazioni prevalenti i soggetti attuatori in alcune situazioni ove ove noti e dove indicati quindi sostanzialmente in tutte le schede compresi i suati invarianti e più interessante una parte centrale questa molto utile credo per chi si trova a governare il territorio quindi nella vostra situazione che cos'è questo è un'indicazione del livello di attuazione ovvero rispetto alle trasformazioni previste dal piano vigente quanto queste hanno inciso sul territorio e quante sono state realizzate ovvero in questo slide trovate dall'alto verso il basso quindi man mano che vedete la colonna di destra più riempita significa che il livello di attuazione cresce quindi trovate nella base nelle parti sottostanti i livelli di progettazione quindi quando il piano è stato adottato approvato convenzionato e poi a seguito delle fasi progettuali giuridico-amministrative quanto questo ha trovato attuazione nella trasformazione quindi una trasformazione urbanistica non è o no lo faccio tutta o non la faccio ma posso aver attuato per parte in questo caso nel documento quindi trovate come dire tre range meno del 75% più del 75% quindi più di tre quarti è completato interamente un altro tassello importante è stata la ricognizione dei collaudi cioè se per quanto riguarda la dotazione degli spazi di attrezzature pubbliche previste dai piani tutte queste sono state regolarmente acquisite collaudate verificate e abbiamo indicato anche la data nel quale questa operazione è stata completata questo è un dato molto importante e ci permette di verificare puntualmente i livelli di attuazione i livelli di attuazione delle trasformazioni nell'ultima colonna trovate i dati dimensionali quindi diceva introduceva l'assessore prima che ha partecipato agli incontri questa dimensione che è emersa dall'arcipelogo dei contesti quest'idea non della quantità ma della qualità cioè andare a lavorare sugli aspetti qualitativi che poi troveremo nella seconda parte del report veramente sto finendo qui li trovate invece come necessario che sia come in ogni buona diagnosi tecnico-scientifica misurati e quindi il livello di attuazione in termini di volume di spazi di residenziali attuati e tutta la dotazione pubblica realizzata viabilità e elementi di corredo ecco in questo esempio trovate dei numeri che sono quelli in realtà di tutta la trasformazione vi faccio vedere solo in via esemplificativa una scheda successiva che con termini a quella che vedevamo prima l'utilizzazione che guardavamo e questa in alto in questo caso trovate per chi è da casa lo vede per chi sta qui in sala lo intuisce lo vedete là in piccolino ma è un terreno agricolo quindi si suppone che la trasformazione anzi è evidente che la trasformazione non sia stata attuata questa è la previsione urbanistica e come vi dicevo qui trovate nel livello di attuazione piano non attuato ok quindi in questo caso la dotazione è quella potenziale del piano non trovate che cosa è stato fatto ma quello che il piano prevedeva quindi un potenziale un der come dicevamo questo è molto importante per tracciare all'inizio individuavamo un punto di partenza ma in realtà inizia a tracciare anche la traiettoria cioè dove posso arrivare perché parte di queste trasformazioni in corso devono e saranno necessariamente mantenute quindi sono delle previsioni insediative che devono essere contenute e saranno contenute nel nuovo piano e che quindi limitano e condizionano le eventuali previsioni aggiuntive il report quindi è costituito da tutti i fogli a tre diciamo sempre che chi è curioso vuole stamparselo anche in A4 si legge e c'è una copia depositata a cartaceo questo come come penso della procedura torno al documento quindi nella pianificazione vigente ecco la lettura si completa in questa fase di documento programmato con queste 256 schede le sezioni successive sono sezioni già orientate a una lettura di territorio e in particolare una lettura dei contesti quindi con due dimensioni guardare come Osimo si colloca nel suo territorio da Ravasta e guardare come Osimo al suo interno si struttura in termini socio-demografici quindi sono due scale diverse di valutazione nel capitolo 4 e 5 in particolare nella sezione 4 noi ci siamo avversi di alcuni studi che abbiamo già condotto come unità di ricerca per l'area metropolitana medio-adriatica e che valgono molto bene delle letture interessanti per il territorio di Osimo collocandolo dentro il contesto i riferimenti ovviamente normativi canonici sono poi quelli del PTC piano di coordinamento PPR e REM come elementi centrali in questo documento quindi trovate gli aspetti botanico-vegetazionali geologico-geomorfologico storico-culturali identitari sono stati redatti dallo staff che trovate ancora credo seduto con grande pazienza in fondo e che su questi aspetti se avete domande può darvi delle risposte già questa sera in questa sezione abbiamo raccolto nei dieci punti che cosa l'esperienza dell'arcipelago dei contesti quindi il confronto partecipativo il documento si avvale di tutta un'analisi socio-demografica dei diversi contesti proprio per andare a che cosa a fare che cosa andare a caratterizzare il territorio per le proprie come dire per le proprie caratteristiche e spostando io questo come disco rotto lo dico a tutti gli incontri spostando l'attenzione non dalla parte come dire degli edifici ma verso la comunità questo è molto importante cinque minuti ho fatto è molto importante perché ci dà la possibilità di capire effettivamente un piano che è un progetto che traguarda al futuro non tanto guardare il territorio costruito e le previsioni insediative ma chi abiterà nei prossimi anni questo questo territorio ed è molto importante per dimensionare correttamente il fabbisogno insediativo dei singoli contesti ci tengo a precisare che come dire il concetto delle frazioni lo riteniamo superato da questo punto di vista ognuno di questi contesti ha valenza e valore identitario per il territorio di Osimo e per una comunità che lo abita e che lo sente proprio il piano poggia fortissimamente su questa identità e l'obiettivo che era anche uno dei rilievi della provincia è quello di garantire qualità e servizi ad ogni singolo come dire contesto analizzato lavorando con la comunità di ogni contesto e cinque minuti restanti vi posso dire che l'appendice è costituita da cinque temi dominanti che sono legati trovo in grandiglia un po' io penso che da casa non so cosa hanno se si legge spero di sì ma visto così non lo so però abbiamo finito quindi non ci interessa più quindi gli indirizzi del nuovo piano sono legati un po' anche non so se noi abbiamo provato a schematizzarli associandole alle cinque torri di Osimo questi cinque concetti che sono da un lato pilastri quindi torri sul quale poggiare poi lo sviluppo del territorio qualitativo ma sono anche cinque temi sul quale sperimentare e questo è il ruolo dell'università cercando di innovare ecco crediamo fortemente che sul territorio di Osimo ci siano elementi di grande interesse sul quale poter applicare metodologie innovative per la pianificazione in questo momento il piano nazionale ripresa e resilienza ci chiede questo introduce dei temi innovativi attraverso lo richiamava anche l'assessore nell'introduzione attraverso la pratica e l'analisi del territorio che abbiamo condotto in questo periodo abbiamo già catturato 4 milioni 4 milioni e 2 per interverire nel capoluogo significa che utilizzando e guardando in maniera diversa questi elementi è possibile catturare valore e portarlo sul territorio i temi fondamentali quindi sono cinque la rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare sono scrittati su tre temi fondamentali il tema della qualità viene trattato in questa dimensione associato a un secondo driver importantissimo che è legato alle risorse ambientali e naturali questo sarà un elemento centrale perché la qualità dell'abitare si gioca moltissimo sulla dimensione ambientale e questo la crisi sanitaria ce l'ha evidenziato con grande importanza introducendo elementi di innovazioni quindi la prestazione ecologica funzionale le infrastrutture verdi elementi che danno qualità al sistema dell'abitare e coniugano il sistema insediativo con il territorio aperto delle dotazioni ambientali un terzo aspetto fondamentale è quello legato ai servizi e alla cultura e allo spazio pubblico quindi servizi e cultura legati allo spazio pubblico dove il documento strizza l'occhio a strumenti innovativi come il bilancio partecipato il riconoscimento dei beni comuni urbani e i fatti di collaborazione ecco questi sono tutti strumenti che guardano alla comunità e ai luoghi non è un oggetto specifico di carattere urbanistico ma abbiamo per esperienza personale conoscenza del fatto che se io li inserisco all'interno di uno strumento urbanistico questi hanno un potenziale di espressione molto più elevato e quindi sono molto più efficaci quindi l'attenzione non è tanto al disegno del suolo quanto all'efficacia del piano gli ultimi due punti e poi ho finito ho sporato cinque minuti legato all'infrastruttura e alle mobilità ovviamente questo è un tema centrale controverso perché come dire un punto debole del piano vigente lo sapete tutti qual era e quindi riflettere su questo su questo tema diventa centrale fin dall'inizio e ipotizziamo delle soluzioni che integrano alcune scelte che il piano come vigente contiene e alcuni elementi di innovazione dividendo il concetto di infrastrutture da mobilità spesso questo concetto viene trascurato non è chiaro in questo documento si delinea che cosa che ci sono modelli innovativi di mobilità che devono trovare le proprie infrastrutture e vecchie infrastrutture che devono trovare un modo diverso di essere utilizzate quindi non prevedere magari strade dentro ambiti urbani di attraversamento ma dare qualità completando le viabilità minori dando qualità e accessibilità al sistema dei servizi e magari immaginando una viabilità come dire di attraversamento che serva nel sistema di area vasta l'area dell'Anconetano con l'area del maceratese e che però non impatti nella qualità di chi abita Osmo l'ultimo punto che forse come abbiamo detto durante le consulte noi abbiamo messo in fondo io l'avrei messo per primo è quello della resilienza della sicurezza territoriale resilienza perché strizza l'occhio al programma nazionale sicurezza perché è un requisito fondamentale per abitare un territorio sappiamo quali sono le criticità del territorio di Osmo un piano non può esimersi dall'affrontarlo e nel documento programmatico abbiamo individuato indirizzi anche per questo siamo a disposizione per dare chiarimenti aggiuntivi e vi ringrazio grazie è aperta la discussione se volete prenotarvi grazie non ci sono richieste di intervento ha chiesto la parola il consigliere Ginetti prego consigliere Ginetti alla fine i tecnici saranno a disposizione per eventuali domande per rispondere prima delle conclusioni del sindaco sì grazie presidente grazie al agli giustatori alla nostra dirigente ingegnere vecchietti al professor Marinelli ho avuto la fortuna di ascoltare per tre volte circa la stessa cioè la presentazione di questo documento e sicuramente ha delle degli aspetti importanti e direi anche innovativi che sicuramente traccia un po' le linee su diciamo programmatiche di quello che dovrà essere il nuovo diciamo il nuovo la variante oppure il nuovo piano regolatore o piano pianistico comunale che come ci diceva l'assessore sarà in grosso modo adottato fine anno inizio anno in questi casi non bisogna fare in fretta ma bisogna fare bene che è molto più importante ma prima di addentrarmi in alcuni aspetti che mi hanno particolarmente colpito tralasciando tutto quello che è poi quelli che sono gli aspetti tipicamente di carattere urbanistico di interventi le aree del 260 tutti gli aspetti che poi verranno sicuramente ripresentati in questo consiglio io vorrei fare un attimo un escurso storico bravo l'assessore che l'ha fatto ha parlato del del piano regolatore invariante a quello del 96 del 2008 ma che nasce molto prima al 2008 nasce praticamente alla fine del 2004 2005 e viene all'approvazione definitiva a luglio del 2006 tra l'altro ho riportato anche molto bene qui nel documento dove vengono approvate cioè vengono discusse e in larga parte approvate circa 400 osservazioni diciamo oltre il 90% vengono approvate poi quello che è successo dopo lo sappiamo ma quello che voglio dire e voglio sottolineare che non si possono mettere in a confronto due contesti storici profondamente differenti sicuramente era un piano sovradimensionato ma che come è stato ricordato attraverso una strategia anch'essa innovativa attraverso l'ATS ovvero urbanizzazione per opere pubbliche aveva interessato ha interessato ancora interessa anche se gran parte di quelle aree sono oggetto di diciamo di contestazione degli organismi sopraordinati sappiamo che comunque eravamo in un in un momento in cui era in espansione quella che poi si è rivelata la bolla diciamo la bolla urbanistica la bolla edificatoria che poi ha avuto il suo forte pesante doloroso declino alla fine degli anni duemila è chiaro che del quel piano che aveva opere aveva opere legate alla trasformazione urbanistica è stato realizzato abbastanza poco in alcune parti fino al 50% in altre parti molto meno ma cosa è successo nella situazione politica la situazione nel mondo dell'edilizia locale regionale e nazionale negli ultimi 10-15 anni lo sappiamo benissimo cioè adesso si sta muovendo per il super bonus ma fino a quel momento fino a qualche anno fa anche negli anni immediatamente precedenti la pandemia c'era una grossa crisi di questo compasso quindi è chiaro che una programmazione urbanistica fatta in un momento in cui c'era un trend fortemente positivo legata alla diciamo alla finalità che era la scelta di un'area di una strada di bordo a sud ha fatto sì che questo in questo momento negli anni successivi in quel momento che poteva avere una sua logica poi non l'abbia avuta questo è quello che poi c'è stato il contenzioso con la provincia molte aree sono state oggetti di controversia e oggi dopo molto tempo forse troppo ma comunque stiamo trovando una soluzione una delle soluzioni sindaco che potevano essere già diciamo inquadrate attraverso un colloquio istituzionale come lei sottolinea appunto per cercare di non entrare in un confronto forte e diciamo di sì diciamo con un confronto diciamo uno scontro con con la provincia di Ancora in realtà in questo modo credo che si tuteli soprattutto l'interesse della nostra cittadinanza come deve fare un'amministrazione quindi dire noi non consumiamo territorio mentre prima consumavano va sempre letto in un'ottica che è quella che ho appena discusso parliamo di momento storico diverso da quello che poi è successo e da quello del quale siamo ora e quindi sicuramente accogliamo di buon grado questo documento perché rappresenta sicuramente un approccio nuovo un approccio nuovo ma senza nulla togliere alla chi ha compilato il piano regolatore duemila e sei duemila e otto che anche in questo documento viene riportato come per l'aspetto di attenzione e di eh e di coerenza col TPR si tratta di una delle prime esperienze che si è scritto nella nel nel capitolo che riguarda il piano vigente quindi non è sicuramente un piano fatto con eh finalità assolutamente di non tener conto dei piani paesaggistici sopraordinati del piano per la sette della sette idrologico sicuramente ci sono state delle aree contestate per la mitigazione per l'eccessiva mitigazione del rischio però questo è un aspetto che è ora come ora ci interessa fino a un certo punto ci interessa invece il fatto che arriviamo alla fine di un percorso che poi in realtà è l'inizio di un altro che ci porterà a una forte riduzione del consumo del suolo ma comunque ricordiamoci che le aree di quel piano regolatore di quello che sta parlando rimangono rimarranno in un'ottica di programmazione urbanistica che comunque viene vista l'ambito di un sistema ampio che è quello del sistema città città comunitale ambientale ma poi voglio un po' più vicino si scusa concluda consigliere il bilancio però penso anche per altri comunque quanto sono arrivato aspetto il microfono no no ma vabbè comunque diciamo vada avanti allora vado avanti ma sarò io c'ho diversi appunti comunque sia me l'ho letto non l'ho letto tutto ma cercato di aspetti allora io vorrei dire questo l'introduzione del sindaco che troveremo presto è importante ma su questa vorrei vorrei in qualche modo ribadire un aspetto tutti quanti ricorderanno che durante lo svolgimento di consigli comunali quando si parlava quando si parlava di del piano del verde quando si parlava del piano per la mobilità sostenibile del PEPA veniva veniva detto ci veniva detto dal sindaco l'amministrazione che in realtà questi saranno contenuti all'interno dello strumento urbanistico del piano che stiamo attuando io sul piano del verde così come del piano particolarizzato del centro storico non ho assolutamente alcun dubbio sindaco ma per quanto riguarda il PEPA e anche quello che non viene fatta assolutamente menzione l'ho fatto rilevato già nell'ambito delle consulte io credo che sicuramente se noi riusciamo ad adottare il piano in cui ci sia anche ci sia a livello di infrastrutture un piano o comunque degli indirizzi per la mobilità sostenibile che sia poi propedeutica a breve per il piano dell'eliminazione delle barrile architettoniche sicuramente faremo un grande favore a chi è meno fortunato di noi per l'altro aspetto quindi salto salto gli aspetti positivi sui quali mi volevo soffermare quali quello della qualità della qualità della qualità della dell'abitare che è stato molto ben riportato facendosi riportando lo studio della regione Marche sull'area vasta di Osimo in poche parole si dice che la qualità dell'abitare sia da un punto di vista di abitazioni nuove sono uno standard alto c'è poi per quanto volevo chiedere anche vi lo chiedo velocemente per poi un avvio a concludere se c'era se volevo conoscere in maniera magari un po' più articolata questi progetti di finanziamento riguardo agli strumenti di finanziamento del capitale naturale tipo il discorso LAEF eccetera così come volevo che magari si spendesse una parola sull'urbanistica tattica che mi ha colpito per la sua bellezza e simpatia però anche se conoscendo molto l'ambiente osimano ho delle ho delle delle perplessità per ultimo quindi ho parlato del discorso della della del PEVA ma quello che invece non viene non viene evidenziato in questo piano è tutto quello che riguarda la parte della infrastruttura riguardo alla mobilità si riprende una uno studio di Leganet che risale ormai a 4-5 anni fa ma non si evidenzia che Osimo non ha ancora un piano urbano del traffico come dovrebbe avere un comune sopra i 30 mila abitanti guardate quanto è fatto bene quello di Iesi perché credo che è soprattutto nell'ottica di una progettazione di una strada di variante sia importante ma non solo per questo ma per tutto quello che riguarda le infrastrutture maggiori e minori legate alla viabilità l'altro aspetto l'altro aspetto invece riguarda la mitigazione del la mitigazione del del rischio del rischio la mitigazione del rischio per quanto riguarda l'assetto ideologico poi a seguire parleremo appunto ci tratteremo una un punto in cui si prende in considerazione la possibilità di mitigare il rischio di una zona ad alto rischio allusionale ma che avendo fatto avendo essendo stati fatti di lavori di mitigazione di mitigazione appunto eseguite se questo aspetto che noi discuteremo tra poco per la zona industriale di Osimo Stazione proprio perché è ormai un dato di fatto acquisito ci sono già dei pareri precedenti anche di qualche anno dell'autorità di bacino quindi la regione Marche se considerata la disponibilità dell'analisi geomorfologica dei bacini interessati non utilizzare il procedimento del PRG in atto anche nel documento che stiamo realizzando in particolare in quelle aree in cui le opere di mitigazione sono state già eseguite come campo cavallo questo è il concetto quindi prendendo questa situazione si potrebbe comunque traslare anche da altre parti per ultimo ultime due cose sono delle criticità che non so quanto interessino questo argomento però l'altra è la retrocessione delle aree PIP ci sono due aree PIP che praticamente che sono tornate di proprietà del comune una è a sindaco a passatempo l'altra non mi ricordo dove è si una a passatempo l'altra non mi ricordo forse anche qui queste aree si quella di Viacola si quella sono presente anche qui c'è un aspetto che si metterà in qualche modo mano per l'altro aspetto poi c'è un problema cronico che forse questo non interessa molti la programmazione ma c'è il fatto della mancata del mancato per l'audo quindi della non non proprietà non passaggio al patrimonio comunale di alcune strade alcune e alcune tratti di strada di opere di ostentazione prima realizzate prima del 2000 questo sapete benissimo che c'è questa situazione perché dal 2000 poi la cessione viene dal 2000 in poi poi la cessione è stata fatta contestualmente alla firma della convenzione con il comune quindi tutte quelle opere pubbliche realizzate nelle lottizzazioni o comunque in concomitanza scomputo come contributo di miglioria nelle lottizzazioni sono patrimonio del comune quelle di prima non tutte quante anche questo è un aspetto che penso che bisogna prendere in considerazione grazie presidente del tempo concesso ecco erano alcuni aspetti che ho voluto in qualche modo esternare per poi confrontarci anche su quello che sarà il work in progress di questo documento che oggi andiamo ad approvare grazie 15 minuti precisi consigliere Ginnetti dando un'ampia interpretazione del regolamento possiamo dare 15 minuti anche vista l'importanza anche se il regolamento non è proprio chiarissimo perché parla di regolamenti comunali in generale però diamo 15 minuti perché è importante parlare oggi e su questo punto passo la parola ha chiesto la parola il consigliere Alessandrini prego grazie presidente io ne prenderò molti di meno anche perché sono un umile giurista di campagna per cui non avrei nemmeno gli argomenti per poter intrattenere così tanto detto ciò io penso sia importante dal mio punto di vista scindere fra l'aspetto politico e l'aspetto tecnico ho fatto forse l'errore di cominciare a leggere a sfogliare il vostro documento partendo dalla fine ho letto soltanto alla fine la nota introduttiva del sindaco per cui mi rendo conto che voi vi siete giustamente trovati a confrontarvi con quelli che sono gli indirizzi di una maggioranza che vi ha affidato un incarico ovviamente dal punto di vista tecnico ripeto non sono un ingegnere un architetto per cui non avrei grossi rilievi da fare se non oggettivamente complimentarmi per il lavoro perché adesso sfogliandolo ma anche su aspetti banalissimi che possono non andare a interessare nozioni che poi non è neanche vero però nozioni urbanistiche più stringenti come ad esempio l'evoluzione demografica nelle varie frazioni la divisione delle fasce d'età la composizione dei nuclei familiari già questo è uno strumento che per chi in maniera un po' da detto il lavoro o da appassionato si interessa della cosa pubblica in questa nostra cittadina può avere può trovare degli indirizzi utilissimi per avere oggettivamente un quadro della situazione che io per primo forse non penso nemmeno di essere stato l'unico prima di leggere questo documento non avevo ci sono questioni dove ad esempio mi sono preso degli appunti tutto ciò che attiene alla gestione delle acque i bacini inondabili degli strumenti oggettivamente condivisibili ammirabili e che penso e mi auguro che sono certo saranno come dire un lume una guida per l'approvazione del futuro piano regolatore ci sono altre questioni come ad esempio quelle delle zone 30 che in alcune aree della nostra cittadina oggi anche vedendo dei render e dalle proposte all'interno del documento mi trovano totalmente d'accordo in altri casi ad esempio magari potrebbero creare dal mio punto di vista dei problemi di viabilità però ripeto dobbiamo approcciarci a questo documento per quello che è quindi una linea guida programmatica sul quale poi sviluppare un altro atto successivo di uguale se non addirittura maggiore importanza io in questi anni sono stato forse quello più come dire più convinto nell'andare a sostenere che noi dobbiamo guardare al futuro e non dobbiamo guardare al passato perché all'interno di questo consiglio per tantissime volte non si è fatto altro che parlare anzi rimproverarci quello che aveva fatto Tizio quello che aveva fatto Caglio in alcuni casi addirittura anni prima molti anni prima che molte delle persone incluso il sottoscritto che siano all'interno di questo consiglio non soltanto avessero il diritto di voto ma probabilmente fossero addirittura nati quando si parla di piano regolatore però non posso cioè almeno dal mio punto di vista non posso non pensare al passato perché se è vero che i contenziosi con la provincia sono stati un fardello importante e anche qui potremmo aprire potremmo stare giorni a parlare di questi di questa situazione potremmo aprire un dibattito lunghissimo sull'efficienza e l'efficacia della magistratura perché io non penso che dieci anni siano un tempo accettabile e dignitoso in un paese civile per poter derimere una questione così importante parallelamente io non e in questo non sono totalmente d'accordo con quanto detto con Ginnetti io non credo che il piano regolatore del passato approvato nel 2008 ma frutto naturalmente di anni precedenti di sviluppo possa avere tutte queste scusanti perché se in alcuni casi certe scelte sono obbligate e lo erano in altri a secondare una bolla speculativa che probabilmente tutti io ripeto all'epoca nel 2008 stavo facendo un calcolo avevo il patentino e non la patente mi stavo preparando per la tesina della maturità però per la tesi della maturità però ripeto a secondare una bolla speculativa non è una cosa incomiabile così come forse sono mi sbaglio io poi del resto molta meno esperienza di tante altre persone qui dentro ma la forza delle pubbliche amministrazioni e soprattutto la forza delle amministrazioni locali che sono quelle più vicine ai cittadini e che vanno a incidere in maniera più incisiva nell'immediato e nella vita di tutti noi deve essere quella per quanto possibile perché poi sappiamo che ci sono entri sovraordinati ci sono delle forze da non incontrollabili deve essere quella di avere una visione una visione che poi si può condividere o meno una visione che deve dettare una linea ovviamente rispondendo anche alle esigenze dei cittadini ma quando a distanza di dieci anni noi ci ritroviamo con sentivo prima dall'assessore paglierecci 300 ettari non sviluppati con a parte che anche senza vedere i dati è sufficiente fare un giro in qualsiasi area di questa nostra bellissima cittadina per vedere aree non più lottizzate capannoni iniziati abbandonati non apro nemmeno la questione che forse a me è più vicina di passatempo con quello scempio perché dopo pure lì mi rendo conto che abbiamo avuto ditte che sono fallite ci sono questioni che vanno al di là del comune però tante ferite dal mio modo di vedere purtroppo insanabili che tutti i giorni vediamo sono frutto di scelte del passato e scelte sbagliate perché pensare che questa nostra cittadina potesse raggiungere i 45 mila abitanti non so che cioè in un'ottica in cui da 50 anni il callo demografico in Europa è purtroppo inevitabile per carità forse siamo stati troppo ottimisti nel passato un altro aspetto che mi sento invece di come dire di condividere o quantomeno di incoraggiare e di ringraziare ancora forse da questo punto di vista proprio per dare adito a tante chiacchiere in merito al mio rapporto con questa maggioranza le 150 istanze che avete ricevuto da parte dei cittadini 150 istanze che immagino saranno state ricevute da cittadini di ogni forza politica ma magari molti dei quali magari manco vi hanno votato e manco vi voteranno però ogni strumento di partecipazione no me lo auguro questo ogni strumento di partecipazione e soprattutto eppure qui andiamo a toccare la carne viva delle persone perché io penso che nessun cittadino simano non ci sia un cittadino simano che non conosca almeno un parente un familiare un amico che abbia rimesso la salute i soldi che ci abbia oggettivamente come dire che abbia logorato parte della propria esistenza per delle scelte anche qui dico sbagliate del passato perché gli esempi di persone umilissime normalissime che hanno avuto la sfiga perdonatemi questo termine francese di avere un frustolo di terra edificabile che per dieci anni hanno pagato delle imu delle imu delle tasse folli senza avere nessun modo di arginare io penso ripeto ognuno di voi sa di persone che sono state costrette a rateizzarla di persone che sono state costrette ad andare avanti con la pensione della madre con cinquecento secento settecento ottocento euro di pensione utilizzata per pagare l'imu su questa area edificabile per cui ripeto ogni strumento che ci permetta di superare questa fase molte aree erano state delle processe mi ricordo già dall'ultima dall'amministrazione Simoncini qualche cosa sarà stato fatto dall'amministrazione Pugnaloni successiva però queste sono delle questioni dove chi ha amministrato nel passato e questo penso sia assolutamente trasversale non è una questione di destra o di sinistra ha ognuno la sua quota parte di responsabilità noi ci ritroviamo anche a livello locale con delle affluenze ignobili alle elezioni forse e anche per questo motivo qui detto questo per cui essendo totalmente ammirato per l'aspetto tecnico e ringraziandovi ringraziandovi ancora perché continuerò a consultarlo con più calma e soprattutto con degli strumenti e dei supporti più efficienti c'è ovviamente l'aspetto politico sul quale mi posso trovare solo in minima parte d'accordo perché ma pure qui non voglio aprire questa discussione perché ho già superato la metà del tempo a mia disposizione per non essere mai intervenuto per così tanto tempo tutta la questione della variante a nord che vedo naturalmente come tutti sapevamo fin dalle elezioni nelle note di indirizzo e qui penso in primo luogo politiche quindi mi rivolgo alla mia sinistra e non più alla mia destra almeno personalmente come non soltanto come singolo ma come gruppo politico non mi possono trovare d'accordo perché pur avendo tante cose da ridire sulla precedente ed ex visione di sviluppo urbanistico della città fatto da altre amministrazioni una volta che si intraprende una scelta almeno personalmente sono dell'idea che bisogna in primo luogo andare a cercare di migliorare e mitigare quelle scelte fatte non andare a deturpare l'ultimo l'unico spazio di questa nostra cittadina che ancora ha quella parvenza di bucolicità che tanto ci piace ma spesso e volentieri soltanto a parole non vorrei che questa variante a nord sia un po' per il nostro sindaco come la piramide di Cheope di Micerino di Kefren questo monumento da lasciare ai posteri ma ripeto siamo ancora in una fase grazie a Dio molto molto preliminare per cui sicuramente non saremmo noi all'interno di questa consigliatura a doverla affrontare però ripeto ancora un ringraziamento a tutti i professionisti che se ne sono che se ne sono occupati grazie consigliere Alessandrine ha chiesto la parola il consigliere Simoncini prego allora io parto da un assunto che tra l'altro la lettura del corposo atto di indirizzo della corposa documentazione a corredo dell'atto di indirizzo mi conferma Osimo non aveva bisogno di un nuovo PRG perché quello attuale è perfettamente in linea col PPAR con il piano territoriale del coordinamento provinciale con il PAI e con tutti gli altri strumenti sovraordinati e soprattutto con quelli appunto della provincia che ricordo all'assessore Paiarecci che non lo ha ricordato la provincia ha eseguito ha inoltrato i rilievi al comune di Osimo fuori tempo massimo ed è per questo motivo che il Consiglio Comunale di allora approvò senza considerare i rilievi della provincia perché se li avesse considerati i cittadini esclusi avrebbero potuto ricorrere contro il comune perché appunto i rilievi della provincia non erano efficaci essendo giunti 4-5 giorni dopo il termine previsto e caro assessore Osimo aveva già un ufficio di piano non lo siete inventati voi pensi un po' l'aveva istituito l'assessore all'urbanistica Salmoni del PD durante l'amministrazione Niccoli ed è ed è continuato ad esistere durante le amministrazioni Latini e Simoncina l'ha detto l'assessore il PRG attuale ha ancora molte aree da urbanizzare da utilizzare ci sono opere infrastrutturali non solo la strada di bordo ma anche la strada di bordo che sono pienamente attuali della strada di bordo dirò più tardi ed è ancora sono ancora ed è ancora attualissima la strada di bordo se ne vediamo i benefici a padiglione le aree industriali hanno ancora zone edificabili le previsioni delle infrastrutture legate agli ATS e quelle non legate agli ATS ma agli ATO sono ancora pienamente valide quindi ciò che serve al PRG vigente sono alcune cose due cose in particolare una è la certezza normativa in alcune aree dove il giudizio sulla loro edificabilità è molto diverso se confrontiamo quello dato dal Consiglio dal Comune di Osimo e quello fornito dalla provincia le famose aree rosse tanto per citare la denominazione che era stata data loro nei piani plurinari di attuazione ma i proprietari di queste aree che hanno un'incertezza normativa a seconda se il contenzioso instaurato dalla provincia al TAR veda prevalere l'ente comunale o l'ente provinciale non è vero che vogliono tutti la retrocessione delle aree io ho visto le vostre cento e passa richieste dei cittadini sul nuovo PRG perché ho fatto richiesta di accesso agli atti e solo un 30% 35% di queste chiedono la retrocessione alcune chiedono lo spostamento altre addirittura chiedono un ampliamento altre chiedono una modifica della destinazione d'uso ma anzi no della destinazione d'uso chiedo scusa ho sbagliato dell'indice edilizio eccetera ora come abbiamo detto quando abbiamo presentato un apposito ordine del giorno per impegnare il comune a intervenire presso il tar per far decidere il suo ricorso l'altro ricorso instaurato dalla provincia fu al tribunale delle acque dove la provincia ha perduto sonoramente a dimostrazione che le tesi progettuali di quel piano regolatore del comune hanno retto alla grande al baglio di quel tribunale e bene dicevo come abbiamo detto all'epoca di questo nostro ordine del giorno che naturalmente voi ci avete bocciato non è assolutamente vero che la maggioranza dei proprietari vogliono la retrocessione moltissimi vogliono avere la certezza definitiva la definitiva scusate certezza normativa sulle proprie aree proprio perché ci pagano l'IMU e magari ancora c'è questa incertezza ed è per questo che presentammo l'ordine del giorno per impegnare il comune a chiedere al TAR e lo può fare soltanto una o tutte e due le parti in causa la discussione di merito sul ricorso che giace nell'archivio del TAR da quasi 15 anni non 10 15 anni ma la maggioranza ce lo bocciò perché come disse Pugnaloni in dichiarazione di voto se dovessimo ridare l'IMU a tutte le persone che si vedrebbero cancellate le aree edificabili andremmo in default e quindi è proprio così vi fa comodo come fa comodo a ogni amministrazione comunale non è certamente un'accusa ma nel vostro caso lo può lo può diventare vi fa comodo l'IMU sulle aree edificabili del tanto vituperato PRG avete sempre avversato quel PRG avete sempre sostenuto le ragioni della provincia avete sempre detto che quel PRG era sovrabbondante che avrebbe portato una città una metropoli che era sovradimensionato per la qualità per la qualità della vita della nostra città tanto che mi sarei aspettato che appena insediati aveste fatto una variante cautelativa per retroscedere tutte le zone rosse cioè quelle in contrasto di parere tra comune e provincia ad aree agricole e invece no invece la vostra arcinota coerenza nella vostra arcinota coerenza avete continuato a ritenere il PRG latini pienamente in vigore perché naturalmente come avviene per ogni amministrazione fanno gola i denari delle aree edificabili anzi per dire la verità di una cosa il PRG avrebbe bisogno un'ante la seconda cosa che il PRG avrebbe bisogno la prima è la definizione del contenzioso altar avrebbe bisogno di una variante per ricucire tutti gli stralci operati a Capocchia che avete approvato per 96 aree retrocesse latificabili ad agricole o a verde urbano stralci eseguiti per accontentare i richiedenti ma che in molti casi hanno stravolto il disegno urbano ed urbanistico e normativo del territorio del territorio simano nel PRG anche la mia amministrazione ha stracciato ben 136 aree ma l'ho fatto seguendo un criterio logico di modo che il disegno del piano non venisse stravolto o si creassero dei buchi negli azzonamenti voi non avete voi avete stralciato molte aree senza un filologico in molti casi aree a cui noi avevamo detto no proprio per non inficiare il disegno urbanistico coerente ed omogeneo della città e invece voi le avete approvate da qui la necessità di alcune varianti puntuali certo ma non una mega variante generale come quella che ci state proponendo che diciamolo a leggere il corposo documento programmatico che è allegato alla delibera non sembra entrare sul vecchio PRG come una ghigliottina anzi evidentemente non solo i soldi del DIMU aree fabbricabili fanno gola ma è del tutto evidente che quelle previsioni del piano latini 2008 non erano così tanto sbagliate ma anzi certamente possono essere migliorate possono essere adeguate possono essere riviste in qualche aspetto ma non erano del tutto da buttare le linee programmatiche urbanistiche a volte assomigliano tanto al Pongo ve lo ricordate il Pongo quando eravamo piccoli che sulla base di forbite motivazioni si può stendere da una parte se si deve sostenere una tesi e dall'altra se si deve sostenere la tesi contraria e si può tranquillamente appunto stirare dalla parte opposta un vecchio architetto mi disse una volta che i migliori urbanisti sono quelli che sanno scrivere meglio in italiano e quanto all'intervento dell'assessore devo dire che sono state ci sono state sul piano programmatico molte ovvietà addirittura molti argomenti vacui insomma situazioni che poi tra l'altro ha riportato alcune notizie storiche in maniera totalmente errata e distorta rispetto ai fatti come si sono svolti in parole povere si può giustificare una tesi progettuale ma anche l'esatta tesi contraria ed è ripeto a me non sembra che queste indirizzo dicano molto di nuovo o innovativo rispetto al PRG vigente che a nostro modo di vedere salvo le due questioni prima rimarcate può andare benissimo così ma veniamo alla uno dei punti cruciali di questo piano regolatore cioè la variante alla 361 settempedana passante a nord questa è una scelta incomprensibile e mi fa specie che esimi professionisti i professori l'abbiano assecondata abbiano assecondato una scelta frutto solo di un capriccio bambinesco di pugnaloni la strada di bordo a sud è stata fatta per un motivo molto semplice e lo abbiamo fatto analizzando i flussi del traffico studiando il traffico della del tratto urbano della 361 e abbiamo visto che la maggior parte del traffico che ingolfa il tratto urbano della 361 e cioè via montefanese via colombo e via marcopolo deriva non dal traffico mascerata verso ancora ma deriva dalle zone di espansione urbanistica a sud e est della città cioè quella zona quelle zone della periferia sud ed est della città che si sono sviluppate in adiescenza a tante strade di crinale che sono via molino menza via cagiata via cortadria canati via flaminia seconda in parte via flaminia prima va da sé che i residenti lungo che i residenti che risiedono nella periferia della città e lungo le lottizzazioni a fianco di quelle strade di crinale per raggiungere ancona oppure dall'altra parte per andare verso macerata oppure castelfilardo oppure le zone industriali periferiche per raggiungere il luogo di lavoro debbano riversarsi sul tratto urbano della 361 ovvero via Montefanese via Colombo e via Polo ma se avessimo una strada di scorrimento a sud di queste aree e la strada di bordo si chiama di bordo perché passa al bordo cioè al bargine dell'edificato est e sud della città ricalcando un percorso che era già vigente nel precedente piano regolatore quello approvato dall'amministrazione Niccoli tutto questo traffico per raggiungere ancona la statale 16 macerata scenderebbe sulla strada di bordo percorrerebbe quella strada anziché via Montefanese Colombo e Polo e si dire si si potrebbe dirigere o verso ancona o verso macerata perché questo traffico come ho detto prima cioè quello proveniente dall'espansione sud e destra della città il traffico maggiore che ingolfa il tratto urbano della 361 mica il traffico che viene da Filottrano Montefano e macerata lo studio fu preciso sotto questo punto di vista allora che senso ha a fare una variante a nord che raccoglie solo il traffico che è minimo proveniente da Casenuove Padione Passatempo o dal Maceratese cioè la minor parte del traffico cittadino che ingolfa nelle ore canoniche della mattina e del pomeriggio le vie centrali del tratto urbano della 361 peraltro il versante che verrebbe sfregiato e uso appositamente questa parola sfregiato dall'asta viaria della variante a nord cioè il versante nord della città nella vallecola del Fosso San Valentino un tempo Fosso Rosciano dal nome di una piccola frazione che si trova dove oggi c'è appunto Via Rosciano è il meno artefatto dall'espansione urbana degli anni 50 60 70 e anche 80 90 che ha fatto sviluppare la città a sud se voi percorrete Via Bella Fiora si vedono ancora le mura romane e l'impianto storico del centro del centro città in più in quelle versante ci sono diverse aree che il PAI piano di assente geologico grazie eh eh scusa sono passati 15 minuti va beh sto finendo ehm allora in più in quelle eh versante ci sono molte aree che il PAI definisce in frana e ci sono due aree archeologiche quindi l'asse stradale dovrebbe fare una zigzag per evitare le zone in frana e le aree di rispetto delle presistenze archeologiche non cito il discorso della valutazione di impatto ambientale quando si fa una nuova variante bisogna fare una valutazione di impatto ambientale dove si dicono se ci siano alternative migliori o meno economicamente meno gravose o territorialmente meno gravose e la variante a sud cioè la strada di bordo è sicuramente meno gravosa rispetto alla variante a nord dato che sono praticamente sono tutte e due tratti lunghi più o meno 5-6 kip ed infine veramente concludo e Presidente mi darà due minuti in più ma faccio pure la dichiarazione di voto così non parlo più se Pugnaloni vuol fare la sua inutile variante a nord e vabbè tanto noi della minoranza non glielo possiamo impedire perché voi avete i voti i voti necessari per approvarla e io dico manteniamole tutte e due in questo PRG la prima ce la finanzia come ha detto Pugnaloni la bella la seconda la strada di bordo ce la finanzia a Cuaroli su richiesta di latini perché rinunciare ad una completa circonvallazione della città sud e nord ah forse perché la variante di bordo l'hanno pensata Simoncini e latini e l'hanno addirittura messa nel programma elettorale del novantanove però come dice spesso il sindaco lavoriamo tutti per osimo no? e allora io vi consiglio di ricredersi sui finanziamenti regionali di andare regione da Acquaroli a dire presidente mi sono sbagliato i fondi per la strada di bordo me li dia pure e che tanto questi sono sicuri quelli della Bella Nova arriveranno grazie grazie consigliere Simoncini ha chiesto la parola ah no momento momento la dichiarazione di voto è contraria la dichiarazione di voto la fa dopo la fa dopo rinterviene grazie c'è bisogno grazie presidente cari colleghi vinnetti alessandrini preparatevi perché domani sull'iste civiche social media diranno che c'è l'inciucio PD Lega progetto Asimo Futura semplicemente perché avete detto delle cose di buon senso e quindi quando uno dice delle cose di buon senso capita che si possano avere posizioni simili anche tra maggioranza e opposizione quindi c'è stata un'analisi ad esempio del precedente PRG di Alessandrini ma anche di Ginnetti che io mi sentirei anche di sottoscrivere in larga parte addirittura mentre invece da Simoncini io ho sentito parole di una persona che è rimasta ferma nel tempo secondo me ad un'altra epoca nel frattempo il mondo anche se in soli quattordici anni rispetto al 2008 è cambiato profondamente eh sì e invece voi forse siete rimasti legati al passato perché eh è innegabile che il precedente PRG sia figlio della bolla immobiliare è stato detto no? anche da Ginnetti e Alessandrini se ho ben capito e una bolla immobiliare come tutte le bolle speculative prima o poi scoppia e quando scoppia lascia delle ferite in questo caso sul territorio e anche dei feriti che sono tutte quelle persone cittadini osimani che hanno subito gli effetti di quella bolla ehm noi adesso chiaramente facciamo un commento soprattutto politico io non ho le competenze per entrare eh nel merito più tecnico però da un punto di vista politico possiamo dire sinceramente sicuramente che questo documento programmatico ci porterà verso un'adozione di un PRG che è un punto di svolta rispetto al passato non soltanto perché probabilmente sicuramente questa maggioranza ha valori diversi rispetto alla maggioranza precedente targate liste civiche ma anche perché come è stato detto in maniera del tutto ragionevole è cambiato il contesto allora è innegabile che il precedente PRG era impostato sulla quantità sullo sviluppo sull'urbanizzazione sulle costruzioni abitazioni centri commerciali questo PRG anzi questo documento programmatico dovrà portarci un nuovo PRG a un'altra visione a una visione della qualità dell'abitare e quindi con tutti i valori connessi mobilità sostenibile ehm il verde pubblico l'importanza del verde pubblico e la rigenerazione urbana quindi rigenerare e completare l'esistente migliorandolo attraverso praticamente un consumo quasi pari a zero del territorio ma questo perché perché ehm per questo motivo secondo me Simoncini è fermo ad un'altra epoca perché non si è reso conto che ehm i standard e le previsioni demografiche nelle marche non sono per un trend di crescita infinita di espansione infinita no tutt'altro ma questa cosa non è che lo scopriamo oggi lo avreste dovuto scoprire anche voi perché eh il vostro PRG ha avuto un 4% di attuazione 4% quindi cosa significa che tutta quell'espansione urbanistica che voi avevate ipotizzato non si è realizzata ok e questo è stato il più grande fallimento di quello strumento perché poi bloccandosi quello strumento ovviamente ha lasciato dei vuoti delle ferite nella città cosa ha lasciato? Ha lasciato delle lottizzazioni non completamente realizzate alcune non completamente collaudate in giro per la città andateci no? nelle frazioni ci sono aree abbandonate perché? perché non è stata completata la lottizzazione una di queste sta vicino a casa mia a San Sabino per dire ma ce ne sono tantissime nella città e voi ritenete che quel piano regolatore sia ancora valido addirittura che si debba andare avanti ma andare avanti dove? quel piano regolatore intanto incassava gli oneri di urbanizzazione l'Imu sulle aree edificabili e quindi ecco i poveri malcapitati l'Imu su aree edificabili in larga parte poi contestate mese subiudice dalla provincia dove di fatto non si poteva edificare se non a proprio rischio ok? quindi intanto quelle amministrazioni sono passate all'incasso ma poi tutte le realizzazioni si sono fermate e sapete qual è la più grande incompiuta di quel PRG? è proprio la strada di bordo che voi volevate finanziare con quegli oneri quello strumento dell'ATS invece quello strumento è fallito perché la maggior parte degli ATS poi non sono stati realizzati non sono non sono stati compiuti e quindi chiaramente la strada di bordo non si è fatta per cui come si fa a dire che quel piano regolatore sia assolutamente valido e non debba essere invece superato io credo che sia veramente fuori dal tempo un ragionamento del genere concludo invece dicendo che approva assolutamente approviamo noi come partito democratico anche tutto il procedimento che si è creato questo questo documento parla di un'analisi di nuova cartografia di una metodologia di lavoro obiettivi chiari c'è un lavoro di squadra c'è un gruppo di lavoro che ha coinvolto i dirigenti del comune ha coinvolto stagisti borsisti ordini professionali e l'università politecnica e tutto questo è frutto di un lavoro di gruppo e di condivisione sul territorio attraverso l'arcipelago dei contesti questo lavoro di condivisione verrà portato avanti affinché ci sia un nuovo strumento di pianificazione urbanistica che possiamo donare alla città e che sia frutto veramente di una ampia condivisione e non della richiesta delle singole istanze delle singole esigenze ma che tuteli tutti i cittadini e tutto il territorio grazie grazie consigliere Gallina Fiorini ha chiesto di intervenire la consigliera Donia prego consigliere Donia si accende l'audio sì grazie presidente allora mi collego a quanto già detto dai consiglieri anche dal consigliere Galina Fiorini dal consigliere Ginnetti e Alessandrini questo è frutto di un lavoro di un attento lavoro di gruppo che dura da un anno e quindi non posso che congratularmi perché il PRG quindi il documento programmatico che andremo ad approvare questa sera nell'obiettivo del PRG è diciamo uno strumento fondamentale per la città di Osimo che si disciplina sia l'assetto dell'incremento edilizio ma non è altro si traduce anche nello sviluppo generale di tutto il territorio comunale quindi anticipo già sarò brevissima perché non ho gli elementi tecnici per poter analizzare anche se ho partecipato più volte anche nelle consulte quindi ho ascoltato com'è che veniva stesso questo documento però non ho gli elementi tecnici per poterlo analizzare mi è piaciuto il fatto che si parla di uno sviluppo sostenibile di questo PRG quindi io voterò favorevolmente per l'approvazione del documento programmatico ma sarò anche ripetitiva continuo a dire di porre l'attenzione su quelli che sono queste lottizzazioni come già i precedenti consiglieri mi hanno preceduto dicendo che insomma la lottizzazione le opere di urbanizzazione primaria non devono essere delle quindi devono essere del comune dell'amministrazione comunale e non può essere un piano di lottizzazione convenzionato con operie a scomputo e poi che rimane incompiuto quindi questo deve essere appunto le opere di urbanizzazione primaria devono essere un onere delle amministrazioni quindi che venga insomma che si vada incontro a un nuovo modo di vedere la lottizzazione non la lottizzazione ma l'edilizia il piano di edilizio nel nostro comune un'attenzione io non ho sentito parlare ma sicuramente ci sarà in questo piano che è quello il piano per gli insediamenti produttivi Osimo ha diversi insediamenti produttivi in aree completamente dislocate fra di loro quindi che venga posta un'attenzione in maniera tale di organizzare i nuovi insediamenti produttivi e delimitarli in un territorio particolarmente interessato e proprio di distinguere un'area a loro dedicata per tutto il resto mi unisco e mi congratulo con la squadra di lavoro che sicuramente sono delle persone altamente specializzate e ripeto voterò favorevolmente questo documento grazie grazie consigliera Donia ha chiesto la parola alla consigliera Bordoni prego se me la richiede ok prego grazie presidente dunque io volevo vorrei solo fare un'integrazione rispetto a quanto ha già ben illustrato il nostro collega consigliere Stefano Simoncini perché vorrei a seguito dell'intervento del consigliere Gallino vorrei chiedere a questa amministrazione come mai non siccome siamo stati accusati di nel tempo aver incassato solamente gli oneri e per quanto riguarda le imposte per l'Imo come mai questa amministrazione in otto anni non ha pensato di recedere di tutte le aree edificabili perché questa sarebbe un'ottima cosa non avete voi comunque necessità di incassare i soldi del Limo recedete di tutte le aree diventate le trasformate in tutte le aree agricole e poi dopodiché si ricomincia da capo che ha bisogno di l'area edificabile sarà poi concessa questo potrebbe essere una soluzione che potrebbe essere proposta alla provincia come mai voi non non rinunciate invece a questa agli incassi del Limo grazie grazie consigliera Bordoni ha chiesto la parola la consigliera Gobbi prego allora io mi unisco si sente mi unisco ai colleghi che hanno fatto i complimenti al gruppo di lavoro e all'architetta Vecchietti al professor Marinelli a tutto lo staff che ha lavorato all'ottimo lavoro di progettazione io volevo un attimo appunto per la progettazione che comunque tiene ben in conto uno sviluppo armonico del territorio di Osimo che tiene molto in considerazione soprattutto l'aspetto ambientale e l'aspetto di qualità di vita di tutta la popolazione e gli aspetti anche culturali e appunto di vivibilità del territorio e volevo un attimo collegarmi a quello che diceva il consigliere Timoncini che critica ampiamente la varianta Nord che secondo me è assolutamente importante per la viabilità del comune di Osimo e comunque la varianta Nord era stata già ipotizzata anche anni fa nelle precedenti amministrazioni e comunque se legge bene il documento appunto che stiamo approvando in realtà si parla di varianta Nord ma si parla anche di implementare la viabilità Sud di collegamento tra i vari eh tra i vari quartieri eh che di fatto con eh la cementificazione selvaggia che è stata fatta negli scorsi anni di fatto non è possibile prevedere una viabilità di ampio respiro perché di fatto non si fa prima la cementificazione poi si pensa alle strade di solito l'urbanistica eh funziona perché prima si fa una progettazione di viabilità e poi dopo eh si fanno le case e gli edifici quindi di fatto questa cosa deve essere eh deve coesistere la viabilità Nord che comunque anche altre città nelle Marche eh l'hanno progettata e l'hanno già realizzata penso a Macerata penso a Matelica che è un centro molto più piccolo di Osimo ma ha una viabilità alternativa che passa al di fuori del centro abitato e che collega e che permette praticamente di bypassare la il centro abitato e senza in eh senza eh aggravare insomma il la viabilità ordinaria del traffico pesante e quindi insomma eh eh mh ho tutto insomma la mia approvazione per questo tipo di progettazione che abbiamo fatto e spero appunto che possa veramente portare a Osimo a una vivibilità e una qualità di vita eh maggiore grazie grazie consigliera Gobbi non ci sono altre richieste di intervento non sono neanche arrivate domande per i tecnici quindi per le conclusioni passo la parola al sindaco che eh eventualmente potrà anche fornirci degli spunti tecnici prego sindaco prego oggi è una giornata molto importante per questa amministrazione comunale ci sono degli argomenti importanti che distinguono le forze politiche ci siamo il piano regolatore generale oggi perché è una giornata importante perché se abbiamo vinto per due volte le elezioni contro coloro che aveva un amministrato per quindici anni della città è proprio uno degli argomenti che ci ha diviso in campagna elettorale in maniera importante è il PRG e la grande viabilità e allora sentir dire da un geometra quasi dare degli incompetenti tra virgolette chiedo scusa se non è la parola giusta incompetenti ma che non servivano per fare il piano regolatore di una città di 35.000 abitanti cosa è venuto a fare l'università cosa è venuto a fare questo staff che sta di fronte a me che ringrazio lo staff caro Simoncini che sta di fronte a me è quello staff che ci permetterà di soperare il consensioso sulla provincia perché prima il consigliere Simoncini diceva il PRG 2008 è ancora attuale non era attuale quella volta non è attuale oggi perché questo perché se ci sono degli enti sovraordinati che ci donano delle prescrizioni e le donano in maniera asettica oggettiva per tutto il territorio delle Marche quando un comune che ha la potestà di fare il proprio piano regolatore non li ascolta e ci arrocchiamo sul fatto che il parere dice l'analisi dei 350 pagine di non conformità del PRG del 2008 è stato bypassato solo perché è arrivato un timbro di protocollo qualche giorno dopo il termine mentre il quale dovrà arrivare quindi il PRG dice Simoncini nel 2008 è attuale fatto bene solo perché il parere di non conformità della provincia è arrivato qualche giorno dopo mi sembrano da parte di un tecnico delle espressioni molto fuori luogo rispetto a un tema così delicato e allora che cosa ha fatto questa amministrazione? Questa amministrazione ha fatto del piano regolatore la sua base per dire che uno dei capisaldi punti del nostro programma era la partecipazione democratica e allora da lì siamo partiti la partecipazione democratica significa rispetto degli enti soordinati costituzione di uno staff terzo che sappia leggere con oggettività gli strumenti soordinati e sappia abbinare l'oggettività degli strumenti soordinati alle richieste dei cittadini che sono arrivati mediante un bando aperto che non è che si è chiuso il giorno in cui c'era la data di scadenza stanno ancora arrivando le istanze dei cittadini perché una pianificazione del piano regolatore io capisco l'imbarazzo del consigliere Achille Ginnetti nel 2008 era in maggioranza votato quel piano regolatore capisco questo imbarazzo e quindi lo capisco ma il PRG del 2008 non può essere né attuale né giusto uno per i rilievi della provincia due perché un caposaldo del nuovo piano regolatore ha la grande viabilità ha detto prima il consigliere Cecilia Gobi la viabilità deve essere prevista prima ancora di prevedere la costruzione di abitazioni o attività produttive perché devi scegliere il miglior tracciato senza pensare a coloro che ti hanno chiesto di poter edificare a destra o a sinistra di questo importante tracciato ed è lì che si è giocata la campagna elettorale perché variante a nord e non variante a sud variante a nord perché vogliamo una variante finanziata da strumenti sovraordinati in un territorio abbiamo sempre detto incontaminato con una forte compensazione ambientale affinché il traffico pesante sia attutito da alberatore forestazione ai lati di questa strada e poi un altro dato importante che ci distingue dal passato è quello che diceva il capo gruppo del PD prima l'amministrazione delle liste civiche voleva finanziare la variante a sud catturando valore dalle nuove edificazioni sapete cari osimani che ascoltate la diretta del consiglio comunale su 32 ambiti di trasformazione strategica quanti ne sono stati realizzati? tre come possiamo come possiamo pensare come potevano pensare i miei avversari politici di realizzare la variante a sud se su 32 ambiti di trasformazione strategica dopo 15 anni di amministrazione civica e 8 anni di amministrazione pugnone con il PLG 2008 vigente tre solo tre ambiti di trasformazione si sono presentati all'ufficio per essere attuati il resto che significa? il resto significa ci sono tanti 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 ettari di terreno edificabile dove all'ufficio tecnico comunale di Osimo non si è presentato mai nessuno per fare una proposta di edificazione ma soprattutto tutti i proprietari stanno pagando l'IMO un IMO importante da tanti anni e rispondo subito e rispondo subito alla provocazione del consigliere Bodoni perché non l'avete retroscelse è ben chiaro qual è lo strumento che vogliamo noi rispetto a quello che volete voi un altro elemento che ci contraddistingue l'ambito di trasformazione strategica obbligava 5 7 10 proprietari insieme a percorrere una strada insieme sia nel presentare eventualmente una proposta di edificazione al comune di Osimo e non è mai facile mettere insieme 10 teste diverse perché da quella edificazione l'amministrazione di Tecivi dice ci facciamo un pezzo di variante a sud secondo concetto per rispondere alla Bodoni perché non l'avete retroscelse perché ci vuole un nuovo rispondo anche a Simoncini ci vuole un nuovo piano regolatore per poter stracciare gli ambiti di trasformazione strategica perché ci vuole un nuovo piano regolatore perché sempre rispondendo al concetto che diceva prima Ginnetti lo sviluppo socio-economico della città da ieri ad oggi si è modificato sì è vero che si è modificato ma non può essere la scusa per giudificare gli ambiti di trasformazione strategica perché anche lì noi adesso faremo un piano regolatore che stralcerà l'ambito di trasformazione strategica non esisterà più lo strumento attuativo dell'ATS semmai per ascoltare le esigenze dei cittadini frazione per frazione parte di città di parte di città sarà ad esempio faccio un esempio il permesso convenzionato ovvero non devo catturare da dieci proprietari due milioni di euro per fare la variante a sud ma catturo valore con il permesso convenzionato da tre o quattro di queste persone che vogliono mantenere l'edificato per costruire una rotatoria per il quartiere vi faccio un esempio perché andiamo per esempio a far capire a chi ci ascolta se siamo in via Flaminia seconda scendiamo da Osimo verso San Sabino e vogliamo girare in via Caciata per Campo Cavallo permesso convenzionato che significa? non mi devi dare due milioni di euro per fare la strada di bordo mi dai trecento mila euro per fare la rotatoria perché ci troviamo in una zona molto pericolosa dal punto di vista della sicurezza stradale e quindi nell'intorno di questa opera di interesse pubblico possiamo mantenere la possibilità di edificare e questo è il concetto perché di questi ATS che nessuno mai si è presentato all'ufficio tecnico per edificare sapete dove finiva la variante a sud? partiva con un viadotto dalla caserma dei vigili del fuoco per arrivare alla gironda che costava diciotto milioni di euro chi doveva finanziare i diciotto milioni di euro di questo viadotto? gli ATS in zona via Marco Polo Monte Ragolo Versante San Sabino non ce n'è stato uno di tutti questi proprietari che è venuto al comune di Osimo a dire voglio costruire sono venuti invece tutti oggi a chiedere di tornare a terra agricola per pagare meno Imo è un concetto molto importante questo che si richiama tre obiettivi che questa amministrazione si è data con lo staff che è stato creato e che ringrazio ringrazio tutti senza fare nome e cognomi tutti perché sono stati veramente silenziosi nel loro lavoro e dopo più di un anno oggi portiamo un documento programmatico nuovo per un nuovo PRG con un nuovo obiettivo e qual è uno di questi obiettivi? dalla quantità alla qualità che significa la qualità? Io non devo disegnare sul PRG le zone gialle espansione le zone rosse di completamento le zone viola per attività a seconda del consenso elettorale a macchia di ropardo sapendo che dice questa relazione che è oggettiva nei dati ma la politica la facciamo noi amministratori è oggettiva nei dati che il 68% del non attuato è nelle frazioni quindi una critica che viene fatta è quella di non avere non solo non ascoltato gli strumenti sovraordinati ma di aver detto sì a tutti non avendo fatto un'analisi socio-economica e anche demografica di come la città si stava sviluppando e infatti dov'è che si è attuato di più? ad Abbadia Osimo Stazione territorio molto appetibile a Campo Cavallo territorio in questo momento molto appetibile perché ci sono molti servizi case nuove villa e la zona di Osimo Est dove dicevo prima non si è attuato nulla e allora non si può dire sempre sì per catturare consenso i sì devono avere in premessa uno studio socio-economico e demografico di come crescerà quella frazione perché da questo al lavoro si dice anche che la popolazione osimana sta invecchiando e allora dalla quantità alla qualità altro elemento che ci contraddistingue dal passato qual è? Mentre prima nel piano regolatore c'era un'area di 10 ettari che veniva disegnata tutta di colore giallo e quindi di espansione e quindi civili abitazioni non si diceva in questo cerchio di 10 ettari di terreno dove doveva sorgere l'area verde dove doveva sorgere il parcheggio dove sarebbe passata la viabilità dove sarebbe stato costruito il marciapiede noi con questo piano regolatore vogliamo inserire la prescrizione nelle aree di espansione e sia produttive che in edilizia residenziale dove costruire gli standard perché dall'analisi fatta degli standard abbiamo dati oggettivi del PRG del 2008 di queste civiche abbiamo il 25% di aree ancora non acquisite e un 36% di aree non realizzate 36 più 25% fa a casa mia il 61% degli standard ancora non realizzati cioè si è pensato a costruire c'è tanto in venduto e non abbiamo le aree verdi non abbiamo i marciapiedi non abbiamo i parcheggi noi con il nostro piano regolatore andremo ad indicare noi ai privati se vogliono costruire dove fare le opere a servizio della città e quindi un altro elemento della quantità la qualità qual è noi non abbiamo pensato per la città di dire sì a tutti coloro che volevano un pezzettino di aree edificabile noi diciamo sì con la qualità al piano del verde al piano urbano della mobilità sostenibile al piano delle energie al PEVA al piano del commercio al piano dell'inizio scolastica sportiva e culturale perché perché se non c'è una scuola che è ben collegata all'impianto sportivo che è vicina alla casa dove abitano i nonni e se i nonni che sono anziani non hanno la giusta intermodalità per arrivare in centro storico con il bus e con il trasporto pubblico locale abbiamo sbagliato non abbiamo vinto se a case nuove facciamo costruire 100 abitazioni perché prima non venivano costruite non abbiamo vinto se a Osimo Oeste vogliamo 30 ettari edificabili per costruire un viadotto da 17 milioni di euro abbiamo vinto se il fotovoltaico lo mettiamo dove non dà fastidio se il piano del verde viene rispettato e non c'è il 61% di aree dei verde ancora non realizzate o non acquisite abbiamo un buon piano regolatore se con l'accessibilità e l'intermodalità non solo colleghiamo i quartieri con le strade ma colleghiamo i quartieri con le piste ciclabili colleghiamo i quartieri con i marciapiedi e allora sì che saremo bravi ad aver pianificato l'arcipelago dei contesti e che cos'è l'arcipelago dei contesti? lo staff che ho qui di fronte a me per la prima volta ad Osimo non ha pianificato la città dentro le segrete stanze del comune come amano dire coloro che non amano i politici che dicono che vanno lì per lo stipendio scelgono senza i cittadini noi abbiamo scelto con i cittadini non ci importa dello stipendio non ci importa di incassare il limo perché tra le istanze come diceva il consigliere Simoncini è vero che c'è un solo 16% che vuole retrocedere le aree da edificabile ad agricole ma non ci dobbiamo limitare al numero delle istanze che sono arrivate perché il numero delle istanze rappresenta 40 ettari 40 ettari di terreno che da edificabile vuole passare agricolo 40 ettari vuol dire che quello che ha detto il capogruppo Gallina è giusto se ci sono oggi dopo 20 anni di piano regolatore latini Simoncini 40 ettari di terreno che tornano agricoli vuol dire che lo strumento dell'ATS è nullo che chi ha sbagliato tutto sono liste civiche lo dico perché è un elemento che ci ha distinto e che ci ha fatto vincere perché la grande viabilità la finanzia lo Stato la finanzia l'Unione Europea e la pianificazione non si fa con il consenso elettorale che si dice di sì a tutti perché se non c'è uno studio di come cresce la popolazione come puoi pensare che in una frazione crescano le case se vedi che le imprese in quella zona di Osimo stanno chiudendo l'occupazione è in calo come puoi pensare di costruire 10 capannoni ecco forse quei capannoni potrebbero crescere se c'è una buona viabilità ecco perché dà la quantità alla qualità perché prima si fanno le strade prima si fanno i collegamenti e poi si fa il capannone prima si fanno le piste ciclabili poi si fanno i parchi e le aree verdi attrezzate e poi nell'intorno cresce un quartiere nuovo della frazione residenziale perché se non ci sono questi servizi è inutile costruire case case e poi ci troviamo 700 appartamenti invenduti nella nostra città questo per dirvi che l'analisi e per rispondere a Simoncini il perché dell'università il perché della dottoressa Vecchietti il perché dello Stato su PRG perché hanno fatto un'analisi finalmente oggettiva rispetto al dibattito politico che ci riporta anche al PRG del 96 e vi do questo dato altro dato che ci distingue dal passato e dalle liste civiche perché solo il 4% del PRG pensato dalle liste civiche è stato attuato il 4% di quel calcolo dimensionale che diceva Alberto Maria Alessandrini di una città che doveva arrivare a 45.000 abitanti solo il 4% è stato realizzato mentre il PRG del 96 di Nicoli quindi parliamo di tanti tanti anni fa non solo teneva conto degli strumenti sovraordinati ma ne è stato ad oggi realizzato un 40% qui cioè il PRG del 2008 non si era reso conto che solo il 40% del PRG di Nicoli era stato attuato quindi ne mancava il 60% solo di Nicoli no aggiungiamo altra edificazione di questa altra edificazione per vent'anni c'è gente che paga a limo spropositata ne è stato attuato solo il 4% sono dati oggettivi che ci devono far riflettere e un altro dato che ci fa riflettere nel motto dalla quantità alla qualità per favore consigliere Abordoni si calmi e mi lasci parlare un altro dato che ci contraddistingue rispetto al PRG delle amministrazioni civiche di Latine e Simoncini sono le tutele che cosa hanno fatto i nostri avversari politici per permettere l'edificazione si sono inventati la prevalenza della tutela di maggior peso che significa questo vi faccio un esempio se la vallata che va da via Chiaravallese verso Case Nuove per il PPR è una vallata che va tutelata perché è un bene paesistico di natura agricola da tutelare noi ci siamo inventati la prevalenza della tutela di maggior peso cioè in un pezzettino di questa vallata ci facciamo la tutela dell'assetto idrogeologico che è superabile con la mitigazione di rischio e quindi qualcuno può costruire un'altra parte di questa tutela così importante ci facciamo la tutela della fascia di continuità naturalistica così lì non si può edificare in un'altra parte più a vale c'è il corso d'acqua e quindi non si può edificare così sono nati i contenziosi alla provincia non solo sul PRG tutto ma ci sono comitati di cittadini ad Osimo che hanno dovuto spendere di tasca propria dei soldi per andare contro la costruzione che era stata prevista per la prevalenza della tutela di maggior peso e allora stiamo ben attenti quando costruiamo un piano regolatore ad esempio ad un'eccessiva interdipendenza tra l'attuazione del PRG e l'obbligo a compartecipare all'alizzazione di una variante a sud che non è stata mai attuata pensate poi negli strumenti attuativi cosa è successo una fiduzione irregolare da un milione e ottocento mila euro dove gli osimani si sono dovuti sostituire per fare il tratto di strada che va da via di Iesi fino a via Montefanese abbiamo dovuto pagare noi la nostra amministrazione con i soldi di osimani perché chi ha permesso la costruzione del coccinelle che sta chiudendo praticamente perché la società è tutto in vendita perché non ha mai realizzato quello che doveva realizzare cioè la strada a sud adesso che cosa fa ci dobbiamo mettere i soldi noi perché la fiduzione era irregolare e allora quando pensiamo agli strumenti attuativi dobbiamo pensare all'attuazione PRG pezzo per pezzo della città e dobbiamo vedere quel pezzo di città se è stata ben urbanizzata e se quella in quella parte di città ci sono tutti i servizi l'unica cosa positiva dell'arcipelago dei contesti che potrebbe riprendere un po' il piano regolatore del 2008 è che un conto è la grande viabilità al nord e un conto interconnettere i quartieri allora se questi quartieri vengono interconnessi con un permesso convenzionato con la compartecipazione dei privati in un piccolo pezzo di area edificabile si fa il transito pubblico per una strada che viene finanziata dai privati ci sta e vi faccio un esempio perché per capire cosa dico bisogna fare degli esempi se nella comunità dei fratti scalabiniani hanno un terreno edificabile a sud del Corridone Campana e vogliono mantenere l'edificazione e il PRG prevede una strada di collegamento tra il Corridone Campana e il quartiere di Sacra Famiglia è giusto che l'edificato rimanga ma chi vuole attuare l'edificato lì deve anche compartecipare al bene pubblico e quindi abbiamo interconnesso due quartieri importanti della città ma la viabilità è interna agli osimani la conosciamo noi allora sì che va bene interconnettere l'interesse privato con l'interesse pubblico anzi porre a carico dei privati la realizzazione di questa strada ma non pensare che da 32 ambiti di trasformazione strategica dopo 20 anni ne sono stati attuati solo 3 e questi dovevano finanziare la variante a sud e questo spero che se abbiamo vinto due volte le elezioni gli osimani l'abbiano capito bene che cos'è questo documento di stasera e ringrazio lo staff che l'ha elaborato sono i dati oggettivi oggettivi che ci permettono di dire quello che in politica ci dicevamo in campagna elettorale perché variante a nord e non variante a sud perché non andavano bene gli ambiti di trasformazione strategica perché c'era un'eccessiva edificazione questa analisi ce lo dice in termini socio-economici socio-demografici e soprattutto inserisce degli strumenti di partecipazione come il regolamento dei beni comuni come i patti di collaborazione dove perché la domanda importante è stata anche sempre questa perché nel passato si è pensato solo edificare poco alle aree verdi perché magari la domanda nel passato era dopo chi la mantiene l'area verde e allora con il patto di collaborazione con il regolamento dei beni comuni significa io costruisco un nuovo quartiere ma nel nuovo quartiere ci deve essere anche l'area verde il verde attrezzato chi partecipa alla manutenzione dell'area verde partecipa al quartiere e di qui infatti sono numerose le iniziative che ci sono state in questi anni con la nostra amministrazione di liberi cittadini che si sono associati per fare la manutenzione di piccoli frutturi di aree verde nel nostro territorio e quindi l'arcipelago dei contesti dalla quantità alla qualità e il terzo elemento in chiudo l'Atlante delle trasformazioni che cosa hanno fatto le liste civiche dopo che si sono accorti che la provincia aveva fatto un parere non conforme al PRG oggi ci dicono che è attuale perché non hanno tenuto conto solo di un timbro io se fossi stato in loro avrei interlocuito un po' di più con la provincia avrei accettato il parere di non conformità e avrei cercato di adeguarmi secondo un confronto e un dialogo istituzionale con loro perché vi dico questo perché cosa è successo dopo che l'amministrazione è andata avanti lo stesso con il PRG del 2008 e non ha voluto ascoltare gli enti sovraordinati per colpa di un timbro che si sono fatte tante varianti puntuali portati in Consiglio Comunale si sono fatti tanti sportelli di variante al SUAP cioè per le attività produttive è possibile andare direttamente al SUAP e in Consiglio Comunale ci si arriva solo alla fine variante fatta dove terreni agricoli sono diventati capannoni e questo strumento utilizzato moltissimo per ascoltare diciamo ascoltare la voce di coloro che comunque avevano voglia di edificare ha portato come diceva l'assessore all'inizio in premessa ad un'elaborazione cartografica del comune di Osimo mediante sistema aerofotogrammetico che ci ha portato in evidenza che la cartografia del comune non era stata mai attualizzata rispetto a tutte queste varianti puntuali diciamo meglio non dirlo varianti puntuali varianti puntuali per esigenze che si presentavano agli uffici e allora se dopo il PRG del 2008 che si muncini dice sia attuale perché si sono fatte finché sono stati a governo la città tante varianti puntuali se era attuale il PRG del 2008 e andavano bene le prisioni del 2008 non c'era bisogno di fare il suo invariante per i capannoni o varianti puntuali per alcuni quartieri se andava bene allora qualcosa che non va c'è stato e allora non si può fare un dialogo con la provincia su una variante non si può fare un dialogo sulla provincia su uno sportello su up in variante il dialogo con la provincia e con la regione si fa su tutto il piano regolatore ed è questo il lavoro che abbiamo fatto noi e quindi in allegato c'è un atlante delle trasformazioni che se voi andate a vedere solo la prima riga dove c'è scritto PRG del 96 vedrete che tutto è stato attuato convenzionato attuato e collaudato tutto quello che sta alla nuova previsione del 2008 non è partito niente poco o nulla e allora una domanda ce la dobbiamo fare se abbiamo vinto due volte le elezioni il PRG del 2008 come dice come dice Diego Gallina è un PRG fallimentare uno perché non ha finanziato la variante a sud sbagliando due perché ci sono dei rilievi talmente importanti fatti dalla provincia che le persone che si presentano all'ufficio tecnico hanno paura di richiedere il permesso di costruire perché il comune gli deve mettere una frasetta dicendo che se il TAR domani mattina si esprime in favore della provincia chi ha cominciato a costruire una casa la deve demolire chi ha cominciato a costruire un capannone lo deve demolire e quindi chi è che si presenta al comune dicendo il PRG del 2008 è attuale ma c'è una frasetta che dice se il TAR si esprime si esprime contro il comune se sei arrivato al tetto devi buttare giù tutto allora sarà meglio costruire un piano regolatore che ci dice veramente dove possiamo costruire e dove non possiamo costruire è un'amministrazione saggia seria equilibrata va in mezzo alla gente e gli racconta perché in una parte di Osimo si può costruire e perché in una parte di Osimo non si può costruire e un altro elemento che aggiungo dal colloquio che i tecnici hanno avuto e concludo con la provincia non è detto che si debba stracciare tutto perché con lo strumento della forte compensazione ambientale e quindi c'è una rete ecologica Marche che noi trasleremo in una rete ecologica Osimo corridoi di natura ambientale che ci permetteranno di dire che se in un'area di Osimo non faccio nomi ci sono 15 ettari di terreno edificabile è possibile che domani questi 15 ettari diventino 3 un quinto però non è detto che abbiamo stracciato tutto ma questo è il brutto del dialogo istituzionale con la provincia che prima non c'è voluto essere per un timbro questo lo dobbiamo dire agli osimani hanno detto le liste civiche il nostro PRG è giusto perché un timbro è arrivato troppo tardi mi sembra che sia esagerato questo discorso e quindi il nuovo piano regolatore ti racconto degli enti subordinati del rapporto avuto con i cittadini perché siamo andati con la cipolla con i contesti a condividere sul posto il nuovo piano regolatore e vedrete che alla fine verrà fuori un documento un piano regolatore alla portata di osimani grazie sindaco apriamo le dichiarazioni di voto consigliera Bordoni per favore si sieda grazie consigliera Bordoni non ha sfiorato abbiamo ha sfiorato di 56 secondi dichiarazioni di voto consigliera Bordoni grazie ha chiesto la parola per dichiarazione di voto la consigliera Bordoni prego intervenga anche se non avrei voluto intervenire perché quello che è veramente simpatico su questa modalità di diciamo di colloquio che il consigliere Gallina Fiorini addirittura dice chi parla in maniera ridondante è chiaro ma quello che mi piace è che siete talmente sicuri di questo piano che per presentarlo essendo così un meraviglioso libro dei sogni io adesso nel rispetto di tutti perché i nostri sono interventi per carità senza nulla togliere al gruppo di lavoro che ci avete lavorato ho personalmente ho assistito a tutti i consigli di quartiere e quindi nella raccolta dei documenti è un chiaro programma dei sogni che piace tanto al nostro sindaco il libro dei sogni ce lo presenta col DUP e ce lo presenta anche questa sera non so lui forse dimentica che ha otto anni che governa e quindi è qua che presenta un piano che ci crede talmente piano e talmente tanto su questo piano e su questo grande no libro di sogni di che migliorerà la qualità della vita degli osimani da qui a brevissimo che ha fatto venticinque anzi ventisei minuti di intervento solo denigrando l'operato di liste civiche allora io dico questo che se qualcuno crede nell'operato che fa racconta ciò che fa e parla in maniera positiva di ciò che fa perché lei ha parlato venticinque minuti denigrando solo l'operato di liste civiche e quindi bene o male significa che in qualche modo qualcosa di fastidio gli dà dove i cittadini osimani non ha capito niente di tutto il libro dei sogni che magari tutto un gruppo di lavoro è andato nel territorio cercando in una maniera positiva e propositiva di raccontare qual è la qualità della vita che andremo a migliorare da qua in avanti quindi questa è la parte principale del sindaco e di tutta la sua maggioranza e amministrazione di quanto ci crede su questo piano che è un piano che sicuramente a livello politico a lei le serve per mettere un bel punto e quindi posticipare da qui in avanti tutta una modalità io le ricordo che lei ha otto anni che governa e le ricordo che la qualità del verde il taglio dell'erba le energie la scuola sono tutte attività che poteva già mettere in atto nella qualità della vita e ribadisco che la retrocessione delle aree e le mette tutte agricole per poi dopo a chi vuole quello edificabile gliele può consentire dopo nel suo milagreoso piano del urbanistico lo può fare ma perché non lo fa e quindi questa cosa la ripeto dichiarazione di voto sì prego aspetti nostro gruppo non sarà favorevole a questo piano grazie consigliere Bordoni ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Simoncini prego allora io ho appreso che voi siete lo sviluppo armonico siete un meraviglioso verde pubblico siete una organizzatissima rigenerazione urbana e noi siamo prima le case poi le strade siamo la cementificazione voi siete la mobilità sostenibile noi siamo le fideiussioni farlocche quelle stesse fideiussioni che per due anni la vostra amministrazione ha rinnovato e non ve lo ripeto più è inutile che dite sempre questa della fideiussione farlocca voi l'avete rinnovata evidentemente non era farlocca nemmeno per voi oppure abbiamo sbagliato entrambi però perdonatemi voi siete la meravigliosa variante a nord quella che deturperà la parte più bella del territorio di Osimo la vallecola del del fosso San Valentino il versante a nord il crinale che va da Monte della Crescia a Montegalluccio è qualcosa di meraviglioso è uno dei momenti paesaggistici migliori di tutta la regione ma si può deturpare con una variante a nord ebbene questi vostri sono tutti luoghi comuni falsi e che non rispondono alla verità storica ecco non è così per carità voi potete bocciarci tutte le emozioni che volete potete votare invece quelle dei vostri appoggi delle cosiddette opposizioni che in realtà vi hanno fatto vincere le ultime elezioni che quindi dovete in qualche modo rinfrancare ristornare firmandogli le emozioni e poi approvandogli e noi invece no voi approvate di tutto e di più ma questa è una democrazia fasulla farlocca davvero so che per voi siamo il male assoluto e per 15 anni a Osimo si è fatto solo il male assoluto e voi siete il bene e nei vostri otto anni avete solo prodotto bene ma non è così e presto ve ne accorgerete e poi tra l'altro io mi rifiudo di pensare che gente intelligente come voi possa credere che negli anni delle liste civiche si è prodotto nella nostra città solo il male assoluto io penso che voi lo facciate scientificamente sapendo bene che non è così ma volendo in qualche modo far credere alle persone che il governo delle liste civiche le liste civiche sono state davvero il male assoluto ma voi sapete bene che non è così lo sapete bene però però si ho capito presidente ma voi fate parlare il sindaco 25 minuti un fatto che non si è mai visto nella storia dei consigli comunali da quando c'era Pier Giacomi presidente del consiglio lei lo fa parlare 25 minuti a me rompe le scatole per 30 secondi e dai tra l'altro faccio la dichiarazione del segretario che vabbè il segretario della maggioranza per carità di Dio però allora il mio voto il mio voto è convintamente contrario a questa a questa inutile spesa per il comune di Osimo grazie consigliere simoncini per chiarire io ho dato dieci minuti al sindaco in più perché lo prevede il regolamento per casi particolari e penso con il regolamento perché lei è della maggioranza e ti fa per la maggioranza è un caso particolare e lei è il peggior presidente del consiglio comunale grazie grazie una medaglia la parola consigliere Ricci prego volevo dire una cosa velocissimamente rispondendo un po' più alla minoranza probabilmente io sono fra le persone più giovani meno tecniche forse anche un po' permaloso o forse quello che ci tiene di più in questo in quest'idea in questi progetti credo che dopo più di due ore su questo punto parlare di poca chiarezza sia poco rispettoso sia poco rispettoso per la maggioranza e per l'opposizione parlare anche solo dell'intervento del sindaco di questi 25 minuti sforati della bellezza di 50 secondi quando puntualmente sforiamo di 5 10-15 minuti adesso per Tigna mi viene veramente voglia solo arrivare a 8 minuti 6 minuti ma non lo farò anche dire anche bocciare questo piano che avviene veramente dopo ogni 8 anni ogni 10 anni se non sbaglio anche poco rispettoso verso i tecnici parlare di libro dei sogni quando lo stesso sindaco parlava precedentemente di un 4% realizzato quindi direi che parlare dare del libro di sogni a questo piano da un piano precedente realizzato solamente per il 4% mi sembra un po' lo zoppo che insegna vuole insegnare a zoppicare a qualcun altro io credo che questa maggioranza farà sicuramente meglio di un 4% se non di più penso che abbiamo analizzato in gran in gradissima parte da dove ripartire soprattutto evitare numerosi sprechi la situazione momentanea del mondo non di osimo non sta aiutandomi io penso che proprio grazie all'intervento anche di persone decisamente più tecniche anche la voglia di chiamare qualcuno non per forza solo noi ma anche qualcuno un parere esterno più obiettivo più oggettivo per cercare di realizzare tutto quanto sia un grandissimo punto di forza sia sicuramente umiltà perché bisogna anche essere umili a volte non bisogna puntare il dito e basta e nulla io da ragazzo purtroppo i piani precedenti non l'ho vissuto in pieno però credo che si potrà fare solo bene e credo che parlare dei piani precedenti quindi giustificando in un certo senso il commento del sindaco serve esclusivamente solo per avere un confronto proprio per esporre il meglio il possibile quello che si va a proporre perché se tu non ti confronti con il passato non puoi solo parlare del futuro è ovvio che devi specificare in cosa andrà a lavorare purtroppo ho fatto solo due minuti e mezzo di intervento grazie grazie consigliere Ricci questa è la parola per dichiarazione di voto il sindaco prego un elemento oggettivo dell'analisi è la frammentazione nella zonizzazione del piano regolatore del 2008 senza tener conto dello stato dei luoghi e del territorio senza tener conto del contesto socio-economico come non posso fare un'analisi politica con il passato non significa denigrare significa che c'è un argomento che ci ha diviso noi abbiamo vinto gli altri hanno perso loro erano per la variante a sud e noi per la variante a nord loro sono per il piano regolatore del 2008 siamo per il piano regolatore del dicembre 2022 perché l'obiettivo è arrivare a fine anno con l'adozione preliminare che cosa serve il passato serve a rendere più aderente al territorio il PLG che andremo a votare e ascoltare bene le esigenze del territorio attraverso di cui io l'arcipelago dei contesti attraverso il motto dalla quantità alla qualità con la rigenerazione urbana prima di tutti attraverso l'analisi dell'Atlante dei contesti perché l'Atlante delle trasformazioni ci ha fatto capire che non c'era neanche una cartografia aggiornata di tutte quelle varianti puntuali che si sono fatte il giorno dopo che il 23 aprile del 2008 è stato approvato il TRG dell'amministrazione Latini che per un dice qualcuno un timbro è valido io credo che valgono di più le osservazioni di non conformità degli enti sovraordinati più che un timbro visto che poi si sono fatte tante varianti puntuali per ascoltare in maniera perissimo il territorio invece ci vuole una visione più attenta di tutto il territorio dello stato dei luoghi del territorio per dare una nuova variante alla città di oggi voto favorevole grazie sindaco ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti per dichiarazione di voto prego grazie voterò favorevole in occasione dell'adozione del piano qualora i miei rilievi e le mie indicazioni soprattutto per quanto riguarda i piani che ho elencato precedentemente ho indicato saranno presenti nel appunto nel nel documento che andremo a provare per quanto riguarda l'attuale il programma il progetto che oggi abbiamo esaminato sicuramente si tratta di un grande lavoro a cui hanno partecipato persone di altissima competenza sia a livello amministrativo che a livello che a livello appunto universitario ma anche diversi giovani e quindi sicuramente loro hanno fatto da un punto di quantità del quantitativo sono convinto il lavoro maggiore quindi a tutti ai giovani in particolare vale il nostro ringraziamento non si è parlato di un aspetto importante che è questo piano i famosi permessi a costruire convenzionali ovvero la possibilità di fare una convenzione direttamente con il singolo qualora ci siano dei delle situazioni di particolare degrado e della e della e quindi la possibilità di recuperare e rendere efficienti zone disagiate questa è una bellissima cosa questa è molto importante così è come è molto importante la condivisione sindaco non è che questo piano è stato realizzato in mezzo la gente sicuramente si sono ascoltate diverse diverse istanze così come andrebbero ascoltate quantomeno con pari dignità anche istanze uscite da questo contesto consigliare e mi riferisco ad esempio al parco delle fonti ovvero una mozione presentata dal loro capogruppo c'è beh sì però anche questo aspetto la delibera era molto articolata sicuramente è indicata la zona però la delibera che approvammo con dell'allora proposta dell'allora capogruppo del movimento cinque stelle David Monticelli approvata la loro unità era molto articolata e vi invito a e vi invito a prenderne prenderne conoscenza ma quello che volevo dire riguardo al permesso a costruire riguardo all'integrazione del privato nella diciamo anche nella programmazione parcellizzata puntuale con poi ricadute come è scritto giustamente a livello pubblico è molto bello sono delle intenzioni molto molto belle che sicuramente fanno quel senso di comunità che al professor Marinelli ma anche a me sta molto a cuore cioè dobbiamo fare comunità e comunità si fa anche attraverso questi passaggi però a patto che ci sia anche un passo in avanti o comunque un una maggiore qualificazione della classe politica parlo in generale non di quell'attuale di Osimo dichiarazione di voto sì sì ho fatto affinché ciò possa veramente far sì che l'urbanistica non sia soltanto quella materia pressoché tecnica cartografica ma rappresenti veramente una base un tessuto connettivo attraverso il quale poi migliora la città e migliora la qualità di vivere è questo il messaggio che ho percepito che sta diciamo il light motive che sottende a questo progetto a questo documento programmatico grazie ha chiesto la parola la consigliera Gobbi volevo esprimere la solidarietà al presidente del consiglio comunale perché insomma secondo me non è il caso qui di continuare con interventi pieni di livore e di maledizioni e anatemi verso la maggioranza e secondo me qui occorre fare sì si può anche non essere d'accordo con con il piano che stiamo per votare però secondo me sarebbe più utile fare critiche costruttive e proposte proposte progettuali perché qui si sta parlando di osimo del domani di come sarà osimo appunto per il nostro futuro per il futuro delle generazioni che verranno e ribadisco insomma il mio parere favorevole proprio perché questo piano limita il consumo del suolo che prevede uno sviluppo armonico della città grazie grazie consigliera Gobbi non c'è bisogno della solidarietà perché comunque lascia il tempo che trovo le polemiche contro il presidente però chiedo a tutti di rispettare il ruolo del segretario comunale e non ho sentito delle cose molto gravi sul garante del consiglio comunale quindi su questo criticate il presidente criticate il sindaco ma lasciate fuori il segretario comunale passo cedo la parola al consigliere Alessandrini prego sì grazie io stupirò i colleghi della maggioranza e forse deluderò alcuni della minoranza ma voterò contrario voterò contrario non perché non rispetti come detto prima il lavoro fatto dai tecnici e soprattutto non perché non ne condivida metodologia e anche proposte strumenti nei quali si propone appunto l'adozione ma perché come detto prima è coerentemente con quanto sostenuto tre anni fa quando mi candidai a sindaco con i nefasti risultati che ho visto ma mi candidai a sindaco e redassi con le persone che all'epoca e che allora mi stavano a fianco l'idea della strada di bordo della variante a nord che possiamo chiamare non è che davanti ci mettiamo il termine la grande viabilità diventa tutto d'un tratto uno strumento bellissimo io ripeto comprendo e rispetto quelle che sono le posizioni di chi è stato chiamato a governare questa cittadina però liberamente penso di non condividerle penso di non condividerle perché quella nessuno mi toglie dalla testa e spero non mi attaccerete di avere un inciucio con il consigliere Simoncini ma io condivido quanto detto da lui perché quella è una zona bellissima ed è una zona che non mi sentirei in coscienza di andare a deturpare con una strada che per quanto possiamo metterci qualche alberatura intorno comunque rappresenterebbe una ferita questo non vuol dire che io non stigmatizzi e anzi contrasti fortemente quanto è successo rispetto al passato quanto è successo rispetto ai precedenti piani regolatori perché io non so se le aree artigianali fatte a vetrina all'ingresso delle case nuove all'ingresso di passatempo venendo da Montefano non so se quelle strade anzi quei vicoli nelle lottizzazioni del Vescovara fra le villette dove siamo stati costretti a mettere i sensi unici perché non c'era la possibilità di parcheggiare le macchine io non so se le incompiute quelle pure dipende forse dalle congiunture economiche dalle congiunture economiche ma le ex violini la porta del vento che adesso è ripartita la regimazione delle acque nella zona dell'aspe e delle case nuove quelle sono delle vergogne che credono che veramente credono giustizia di fronte a qualcuno di più alto rispetto a noi perché ripeto ho la totale libertà di poterlo affermare perché a differenza di qualcuno che sta in maggioranza di qualcuno che sta in in opposizione non ho contribuito a stenderle non avrei materialmente potuto farlo mi rendo conto che bisogna trovarci in determinate condizioni mi rendo conto che bisogna anche assecondare le richieste dei propri dei propri concittadini e così come io vi chiedo scusa ma come come legittimamente che amministrato prima di voi adottava determinati atti per creare consenso lo stesso viene fatto da questa amministrazione da otto anni perché voglio dire fa parte del gioco tutto sta a farlo con criterio e farlo soprattutto con quello che dovrebbe essere come dire una visione di bene comune che dovrebbe illuminare tutti noi per cui ripeto il mio sarà un voto contrario non perché non condivida lo strumento e anzi ringrazio ulteriormente i tecnici che lo hanno che lo hanno redatto e che hanno assistito il comune e così come scusate questa storia del dialogo istituzionale ci sono tantissimi modi per poter smontare e criticare quello che è avvenuto nel passato ma la storia del dialogo istituzionale non regge perché come il dialogo istituzionale era importante con la provincia è ancora più importante oggi con la regione forse per cui questo dialogo intratteniamolo con tutti gli enti intratteniamolo nell'interesse della cittadina io lo sapete ho votato in diverse situazioni proposte atti non provenienti dalla mia parte politica perché li ritenevo giusti e così continuerò a fare per il futuro però ripeto c'è questo questa pagliuzza che non è una pagliuzza della strada nord che non mi può nemmeno indurre di un'astenzione ma mi obblicherà e mi obbliga a votare in maniera contraria grazie consigliere alessandrini chiesto la parola il consigliere Gallina Fiorini per dichiarazione di voto prego grazie presidente il voto del partito democratico sarà favorevole per le ragioni che accennava la collega consigliera Cecilia Gobbi io credo capisco le ragioni del no di Alessandrini è un no motivato da un contenuto non capisco invece chi dice no chi si esprime negativamente giudicando questo lavoro come inutile un libro dei sogni io credo che questo sia uno strumento importantissimo per la città si può non condividere alcune cose alcune visioni ma non si può dire che è uno strumento inutile un lavoro fatto da uno staff di professionisti formato da architetti docenti eh giovani ehm stagisti borsisti perché si deve eh denigrare in questo modo il lavoro fatto mesi mesi di prezioso lavoro fatto da quest'equipe io credo che sia una grande opportunità per la città di Osimo e credo che dopo quello strumento del piano regolatore del duemila e otto con tutto quello che si è portato dietro non aggiungo altro è stato detto tutto credo che fosse arrivato proprio il momento fosse necessario per intraprendere questo nuovo percorso quindi per questo e anche per i contenuti e per il metodo con cui si è arrivati al a questo strumento il nostro voto sarà favorevole grazie consigliere Gallina Fiorini non ci sono altre dichiarazioni di voto quindi possiamo passare alla votazione grazie abbiamo votato tutti 22 votanti segretario qui non mi dà riepilogo 15 favorevoli 6 contrari 1 astenuto votiamo adesso per l'immediata eseguibilità manca il consigliere Ricci il consigliere Pierini votazione completata 15 favorevoli 6 contrari 1 astenuto anche per l'immediata eseguibilità chiudiamo il punto 3 all'ordine del giorno e passiamo al punto numero 4 che è il progetto per la mitigazione del rischio idraulico ai sensi dell'articolo 23,2 24,6 delle norme di attuazione del piano stralcio di assetto idrogeologico per interventi edilizi da realizzarsi all'interno delle aree ricadenti nella fascia di esondazione indicata dal PAI passo la parola al sindaco per la presentazione un attimo prego sindaco oggi abbiamo deciso di dedicare una pagina importante della nostra amministrazione all'assetto urbanistico della città altro punto importante è quello che andremo a discutere adesso cosa prevede ci sono diversi strumenti di tutela nel nostro territorio e nel territorio di tutta Italia uno ne abbiamo parlato prima è il PPAR sono delle tutele integrali e cogenti poi c'è un'altra importante tutela che è il PAI il piano di assetto idrogeologico il piano di assetto idrogeologico è stato rivisto con un PS 2006 dopo l'alluvione che ha colpito in particolar modo la frazione di la dimostrazione da quel di che cosa è successo è successo che con questo vincolo così importante che era stato messo tante attività produttive non hanno potuto ampliare in un momento di fervore economico tante attività economiche non hanno potuto demolire ricostruire in un momento di tanto fervore economico tante di esse non hanno potuto trottare il piano casa perché c'era questo vincolo cogente che cosa è successo in questi anni è successo che si sono naturalmente modificati dei corsi d'acqua che non sono più vincolo per quelle aree di investimento è successo che ci siamo ritrovati in consiglio comunale a dirci di tutti i colori perché non davano importo le vasche di espansione e sono state realizzate un milione e duecentomila euro di opere connesse che hanno incominciato a ripulire gli alvi dei fiumi scaricarasini e allora questa trasformazione del territorio perché la la pongo alla vostra attenzione perché il piano di assetto ideologico non è una tutela integrale e cogente il piano di assetto ideologico è una tutela che ci dice e ci impone se vogliamo modificarla di presentare noi un piano della mitigazione del rischio e allora invece di andare a mettere a carico delle imprese singoli piani di mitigazione del rischio l'ufficio è giunto ad una proposta di mitigazione del rischio di quel rettangolo che dal 2006 ha vissuto momenti di vigore economico ma di non vigore economico dal punto di vista urbanistico perché tanti di queste aziende volevano ampliare o fare nuove costruzione non hanno potuto fare a causa del vincolo PS 2006 allora stasera con il piano di mitigazione che propone il comune si farà una proposta all'autorità di Bacino che in eventualità ci dicesse che abbiamo fatto un buon lavoro da settembre tante di queste attività che vivono a dosi in ostazione potranno presentare al comune una nuova costruzione un ampliamento con piano casa una demolizione di ricostruzione anche a volte con cambio di destinazione d'uso è un'operazione importante perché a dosi in ostazione ci sono le principali attività economiche di Osimo aziende che contano come la CEBI 550 dipendenti aziende due acciaierie tra le più importanti del mondo con sede ad Osimo il gruppo Arveri CSA e il gruppo Alzeron Mittal magari tanti di noi non sanno nemmeno che ci sono queste realtà così importanti ad Osimo come tante altre come Macro Lei Sauro che lavora in tutto il mondo e dà lavoro a tanta gente ecco tutta una serie di situazioni non hanno permesso a queste attività così importanti di poter andare avanti il loro lavoro ancor più di prima proprio a causa di questo vincolo che cosa prevede questa medicazione del rischio prevede impone agli imprenditori di elevarsi di 50 cm dal suolo attuale per poter prevenire nell'eventualità ci fosse una calamità naturale eventuali esondazioni all'interno delle aziende che cosa impone questa delibera di obbligatoriamente iscriversi all'alert del comune cosicché tu possa essere avvertito con largo anticipo che in quella giornata può avvenire una calamità naturale in quella zona che cosa prevede questa delibera l'abbiamo voluta fortemente noi l'hanno voluta gli uffici quindi ringrazio rimasta con noi l'architetto De Chietti che è stata l'ideatrice tecnica di questa proposta di mitigazione il 10% di ogni urbanizzazione verranno messi appositamente in un capitolo di bilancio e serviranno esclusivamente alla mitigazione del rischio dell'area di intervento quindi se ci saranno 10 imprese che vorranno fare un intervento il 10% di ognuno di questi interventi andrà in favore della mitigazione del rischio di osimo stazione di tutto quel vincolo R4 che trovate in delibera di colore azzurro una buona fetta oggi con questa proposta di mitigazione potrà essere superato quindi il comune propone un progetto di mitigazione lo propone perché le condizioni di rischio sono diminuite e perché la proposta di rischio è diminuita perché lo stato attuale di Corsi d'Acqua è migliorato rispetto al 2006 da tanto tempo pensavamo a questa opera per osimo stazione ci siamo interfacciati spesso se era meglio fare un progetto di mitigazione singolarmente per ogni azienda che voleva intervenire ci siamo in un secondo momento interfacciati se per quadranti due o più aziende potevano intervenire con la pre-medicazione alla fine siamo riusciti per non lasciare fuori nessuno a fare una proposta di mitigazione su tutta l'area che ricomprende quasi un rettangolo che va dalla statale Adriatica 16 a via dell'industria e tutto quel rettangolo di territorio lì dove i nostri imprenditori per dare nuova occupazione per far lavorare imprese del posto potranno spero a settembre con l'unione l'autorità di Bacino alla nostra proposta di mitigazione poter effettuare nuove costruzioni e ampliamenti cambi di destinazione d'uso cosa che oggi non poteva essere fatto perché non era previsto un aumento del carico urbanistico in zona R4 grazie grazie sindaco apriamo la discussione consigliere Simoncini prego consigliere Simoncini aveva chiesto la parola un attimo un attimo perché non riuscivo a a riconnettermi allora io ho visto il documento eh documento che lo studio insomma di mitigazione del rischio e devo dire che questa questa delibera promana deriva da un grosso progetto che come Comune di Osimo a seguito dell'alluvione del 2006 Comune di Osimo provincia autorità autorità di Bascino regione Marche soprattutto il servizio ehm ehm come si chiama quello dove c'erano i fiscini ehm servizio ehm protezione civile protezione civile mettemmo in campo eh mi ricordo che all'epoca eh noi facemmo uno studio affidandolo all'Università di Genova di tutte le condizioni di rischio che eh con le piene calcolate del 2006 del 16 settembre 2006 e e ci ci disse questo calcolo ci fece proprio eh capire quali erano le condizioni di rischio del nostro reticolo idrografico ehm e eh l'autorità di Bascino poi fece due progetti importantissimi di mitigazione del rischio idraulico uno sul fosso scarica l'asino l'altro sul fosso rigo che in parte eh interessa marginalmente il territorio del comune di Osimo ma principalmente il fosso rigo è un fosso che scorre eh su eh territorio del comune di Castelfilardo questo eh strumento questo questo piano questo questo progetto di mitigazione del rischio è quello che passa sotto il nome delle casse di espansione ora sul fosso rigo hanno non solo rifatto le casse di espansione ma hanno anche rettificato eh due curve dello stesso fosso sul fosso scarica l'asino eh vennero progettate due o tre mh casse di espansione e mi ricordo che in una riunione col sindaco di Castelfilardo Reficini in provincia Lazzaro dell'autorità di Bascino eccetera e mi dissero guarda questo deve essere approvato eh in quattro e quattrotto perché noi dobbiamo andare a gara dobbiamo affidare i lavori e dico scusate ma qui inondiamo eh una porzione enorme di terreno agricolo mi fai fare prima una riunione con tutti questi proprietari per spiegare questo progetto ascoltare le loro esigenze e devo dire facciamo delle riunioni sul territorio con i proprietari di queste aree che venivano interessate dalle casse di espansione venne Reficini vennero vennero l'architetto Lazzaro della dell'autorità di Bascino vennero i tecnici della regione che illustrarono e devo dire che eh la cosa fu veramente partecipata e compresa dai proprietari di terreno che venivano ehm venivano interessati da queste casse di espansione perché le casse di espansione altro non sono che degli enormi argini che in caso di piena incontrollata dello scarica l'asino prima di eh proseguire con la piena lungo il fosso eh vengono praticamente ehm eh l'acqua viene ehm viene riparata eh viene fatta le casse di espansione sono una sorta di giga che rilasciano gradatamente l'acqua che la piena ha accumulato in questi terreni che vengono allagati al margine del al margine del terreno ora quindi sono eh ah durante la mia amministrazione partirono i lavori del Fosso Rigo e noi eravamo eh dopo venivamo dopo Fosso Rigo e devo dire che eh sollecitammo molto eh questo tipo di interventi e devo dire che poi eh adesso insomma la regione so che li ha fatti poi purtroppo le mie condizioni di salute non mi permettono di andare a verificare sul posto però ho visto il documento istruttorio e insomma mi pare che eh questo questo lavoro delle casse di espansione sia stato eh completato adesso non ho capito bene se manca il collaudo o cose di questo tipo però a seguito di questo lavoro di mitigazione del rischio importante che ha fatto la regione sul nostro territorio intervento di diversi milioni di euro e certamente le condizioni di rischio della della parte terminale di Fosso Scarica l'asino cioè quella che confluisce sul torrente Aspio e si sono sono diminuite le condizioni di rischio sono notevolmente diminuite veramente c'è un intervento che quello studio dell'Università di Genova aveva visto nel nostro territorio è un intervento che dovrebbe essere fatto ma ancora non è fatto non è stato fatto non è stato nemmeno messo in cantiere ma quello sarebbe veramente importantissimo e cioè il rifascimento del ponte della ferrovia perché la sezione del ponte della statale 16 è più che sufficiente per piene come quelle del 16 settembre 2006 mentre invece il ponte su Scarica l'asino della ferrovia è un ponte a tre campate in muratura abbastanza stretto con una sezione abbastanza stretta molto più stretta del ponte della della statale 16 e quello naturalmente fa da tappo fa da tappo e quindi pone a rischio allagamento la parte retrostante che poi è tutta quell'area industriale che appunto il sindaco prima descriveva quindi secondo me per rendere pienamente al sicuro tutta l'area si dovrebbe fare anche questa opera però è chiaro che questa opera non la possiamo fare noi non la possiamo noi la possiamo soltanto sollecitare all'amministrazione delle ferrovie dello Stato che è competente in questo allora se noi oggi facciamo questa proposta di cambio di rischio perché voi sapete che le classi noi sappiamo che le classi di rischio sono quattro da R1 a R4 questa area è classificata come R4 cioè il massimo della pericolosità per quanto riguarda le inondazioni e naturalmente a seguito di questa riduzione del rischio anche appunto la classificazione R4 verrà declassificata a non lo so R2 questo non lo so è chiaro che oggi noi facciamo questa proposta ma questa proposta deve essere accolta dall'autorità di Bacino che poi deve approvare con delibera di giunta regionale questa modificazione delle norme tecniche di attuazione di quella parte di piano straordinario 2006 per cui se le opere di mitigazione del rischio che la regione aveva individuato famose casse di espansione sono state fatte anche se ancora non sono magari state collaudate ma insomma sono comunque in essere se l'autorità di Bacino ci darà parere favorevole a questa proposta io dico perché no questa adozione è condivisibile perché naturalmente le ragioni che prima erano state evidenziate cioè quelle di poter consentire ampliamenti ricostruzioni interventi edilizi in effetti è una necessità può essere una necessità di molte aziende che hanno i loro capannoni industriali in zona per cui ripeto se c'è queste opere che avrebbero dovuto negli studi limitare i rischi sono state fatte se l'autorità di Bacino valuta valuterà positivamente questo nostro studio che devo dire l'amministrazione ha fatto bene a farlo unitariamente per tutta l'area d'iniziativa propria perché altrimenti insomma delegarlo alle singole attività mi sembrava mi sembra piuttosto insomma credo che abbia fatto bene a farlo di iniziativa propria insomma perché l'amministrazione naturalmente ha una visione a 360 gradi e invece magari il progettista di un fabbricato ha una visione piuttosto parziale del problema ultima cosa che voglio dire è che questo fondo del 10% di urbanizzazione da destinare a opere di mitigazione del rischio mi sembra un po' pochino mi sembra un po' pochino perché l'opera principale del fosso scarica l'asino perlomeno secondo quello studio importante che poi anche la regione ci ha chiesto dell'università di Genova ci disse che la sezione del fosso scarica l'asino è sufficiente a garantire il defluire di piene anche importanti come quelle del 16 settembre 2006 che fu un fatto straordinario 80 mm d'acqua in due ore è una cosa mai vista ma l'asta fluviale del fosso scarica l'asta torrentizia del fosso scarica l'asino è molto piena di vegetazione incolta vegetazione magari crollata abbattuta molta posa nella base al fondo del fosso tale che aumenta aumenta anzi diminuisce l'altezza della sezione del fiume per cui qual è il segreto tra virgolette è quello di fare una costante annuale o semestrale manutenzione del fosso togliendo la vegetazione infestante togliendo gli alberi che magari sono nel frattempo caduti togliendo tutto quello strato di posa di limo eccetera sul fondo per poter riprofilare appunto il fondo del fosso ecco io ricordo che finisco durante la mia amministrazione abbiamo fatto due interventi annuali straordinari da 100.000 euro per pulire appunto in luogo della provincia all'epoca poi mi pare che la competenza sia passata alla regione per pulire appunto scarica l'asino il fosso lungo la stradale 16 e altre parti altri fossi del fosso vescovara se non mi ricordo male quello che sbuca che va sotto al centro della frazione di campo cavallo ecco cioè capisco che a volte sostituirsi a un'amministrazione regionale che deve fare l'opera e diceva perché ci devo pensare io io ho tante già criticità difficoltà a far quadrare il bilancio però è vero che un'azione di questo tipo può essere la salvezza in casi di piogge molto importanti di momenti di crisi per cui se potete incentivare quel fondo magari invece del 10% 25% degli oneri e destinare questi fondi a una costante pulizia annuale adesso so che la pulizia è competenza di altri enti però insomma se si può intervenire anche come comune per migliorare la situazione è sicuramente un fatto positivo per cui io sento di votare a favore mi sento di votare a favore perché sinceramente vedo non vedo motivi per non votare a favore grazie ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti prego il sindaco mi ha invitato stiamo approvando un atto importante che ha come oggetto mitigazione del rischio idrogeologico quindi non è una cosa da poco e soprattutto avete sentito cosa detto adesso il consigliere Simoncini che non mi ricordo chi ma un'autorità non so se l'autorità di Bacino o altro dissero che piene come quelle del 2006 di settembre 2006 non possono essere comunque sopportate dall'alveo ripulito o anche allargato della scarica l'assima quindi comunque siamo in presenza di un'area ad elevato rischio inondazione l'amministrazione comunale arriva in consiglio per far sì che l'area che qui è ben delimitata nel disegno che corrisponde diciamo all'area industriale a nord della fazione di osimo stazione a dettare venga applicato questa mitigazione del rischio mitigazione del rischio che sono andato a trovare ci sono due delibere di giunta perché di giunta perché erano puntuali a richieste di due privati appunto uno per la edificazione di un nuovo manufatto nel 2006 il signor Grottini e l'anno 2016 scusate l'anno successivo per appunto l'ampliamento per del signor Macrolei che appunto quindi in effetti quelli lì erano di competenza della giunta ma questo essendo praticamente un indirizzo che va una mitigazione del rischio che va su un'area quale questa area di osimo stazione chiaramente di competenza del consiglio e siamo qui visto che abbiamo la presenza dell'architetto Vecchietti prima le ho dato dell'ingegnere ma capisco che non c'è assolutamente storia di architetti e ingegneri sono me gli primi come lei mi può confermare allora riguardo tra l'altro ovviamente tutto quello che è scritto che parlo diciamo sia della delibera che riporta ampi stralci del documento istruttorio è diciamo sarà diciamo sottoposto e dovremmo recepire i pareri o i pareri dei pareri vincolanti le prescrizioni dell'autorità di bacino ma riterrei così per analogia che siano stati inseriti da criteri costruttivi gran parte forse tutti o un po' di quanto in quelle passate esperienze era stato in qualche modo in qualche modo indicato nella fattispecie vorrei fare due domande per poi parlare di un discorso un po' più ampio la domanda è la quota di calpestio superiore di 50 cm alla quota inondabile compresa tra 26 metri sul livello del mare e 28 essendo 28 il livello la quota della ferrovia se non erro l'altra volta arrivò a 29 se non sbaglio oltrepassò la ferrovia e mi sembra che la ferrovia abbia alzato il livello appunto dei binari mentre si è guardata bene di fare altre cunicoli o comunque gallerie di passaggio ha ripulito i suoi ma anche questo sono anche questo comunque non eviterebbe in presenza di una piena come quella del 2006 che la ferrovia faccia la diga un'altra volta comunque tornando a noi quindi vorrei sapere se i 50 cm sono sui 26 o sui 28 la domanda forse banale ma non riesco a comprendere l'altra domanda che vorrei fare nei criteri costruttivi è riguardo l'aumento del 5% per l'invarianza idraulica perché solo il 5% non il 4 il 6 o il 10 il 15 perché questa era stata l'indicazione dell'autorità di bacino ad esempio questa è una domanda così che mi spingevano appunto a fare esclusivamente per curiosità mentre quello che mi preoccupa molto di più come consigliere comunale e come cittadino è la tabella che abbiamo a pagina 12 abbiamo la possibilità di vederla dove c'è praticamente un'ampia lei la conosce bene praticamente è un'ampia illustrazione di come siamo messi adesso ovvero ovvero ci sono su 6 casse di espansione solo 3 sono finanziate che sono le 2 dello scarico all'asino quella in zona a monte dell'area di cui stiamo parlando e la 3D che è la prima delle 3 di San Biaglio tra l'altro a me risulterebbe che ancora i procedimenti estropriativi che sono che vanno in carico alla provincia ancora non sono iniziati e quindi riterrei che i tempi della realizzazione delle casse di espansione non siano molto brevi ma altrettanto preoccupante una volta realizzate le casse di espansione 4A 4B che a monte effettivamente soltanto siamo di fronte soltanto alla alla a un'ipotetica casse di espansione 3D che è finanziata mentre che sarebbe praticamente sempre lo scarico all'asino che vi augura il fosso di Affagna il fosso di Affagna ma che addirittura ad esempio la casse di espansione di San Valentino la 2A attualmente non è finanziata quindi io direi che sicuramente è una conquista oggi mitigare il rischio ma non è un punto d'arrivo è un punto è un punto in cui dobbiamo essere comunque vigili dobbiamo essere continuamente presenti presso gli enti sovraordinati affinché vengono accelerate tutte le procedure per completare le aree le casse di espansione sono passati 16 anni lo ricordava anche il consigliere Simoncini ma credo che il la necessità che tutto questo territorio venga messo in sicurezza per una serie di motivi ma se non quello oltre della sicurezza perché comunque come sapete meglio di me la tipologia delle precipitazioni atmosferiche è profondamente cambiata profondamente modificata nel documento istruttorio nel documento istruttorio viene fatta una attenta precisa analisi di cosa avvenne quel giorno il 16 settembre 2006 quindi complimenti anche per questo però direi che assolutamente bisogna che si acceleri la realizzazione delle casse di espansione grazie grazie consigliere Ginnetti dopo farò rispondere all'architetto Vecchietti ha chiesto la parola la consigliera Bordoni prego grazie presidente dunque volevo solamente aggiungere una cosa al collega consigliere Simoncini che ha fatto già l'intervento prima di me rispetto a questo progetto per la mitigazione siamo molto felici che è stato portato in consiglio Fugnaloni il sindaco ha preso penso la palla al balzo dal momento che diversi sono stati gli imprenditori proprio dell'area di Osimo Stazione dell'area industriale e a richiederci no un intervento proprio per addivenire a questo progetto di mitigazione per cui ha giocato d'anticipo ma di questo ne siamo molto felici perché comunque evidentemente i nostri suggerimenti sono arrivati e l'obiettivo l'abbiamo raggiunto per cui è un atto che andiamo a votare con molta diciamo responsabilità e insomma ne siamo contenti per quanto riguarda a pagina quattro appunto dove e anche per dare una piccola risposta al consigliere Ginnetti proprio in quest'atto dice che la regione Marche ha programmato interventi strutturali infatti è così la regione Marche ha messo a bilancio 4 milioni di euro proprio per la messa in sicurezza di questa zona e per interventi che qualcosa è già diciamo finanziato ed altro andrà ad essere finanziato di cui ne parleremo poi da qui a breve e per quanto riguarda le casse di espansione del scarica l'asino ci siamo informati e a noi ci hanno aggiornato che la provincia dovrebbe aver cominciato con gli espropri quindi magari il consigliere provinciale Pugnaloni può darci notizie in merito sull'esproprio perché gli atti sono stati già dati tutti in provincia e quindi mi auguro che non sia la provincia proprio a bloccare così che a fine anno si può provvedere all'assegnazione dei lavori quindi nient'altro da dire in merito se non appunto quello di di andare ad approvare un atto che avrà ripercussioni sicuramente positive per la nostra area industriale di Osimo Stazione grazie grazie consigliera Bordoni non ci non ci non ci sono altre richieste di intervento passo la parola all'architetto Vecchietti per rispondere alle domande del consigliere Gennetti ok un attimo prego buonasera allora rispetto alla proposta di mitigazione che abbiamo elaborato la proposta di mitigazione si struttura in due fasi queste due fasi corrispondono proprio alla seguono l'andamento della realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio delle opere strutturali è vero che in questo momento noi abbiamo la realizzazione abbiamo verificato che solo una parte delle opere strutturali che sono le opere connesse alla realizzazione delle casse di espansione sono state completate e quindi in questo momento noi potremmo comunque a seguito del parere dell'acquisizione del parere dell'autorità di bacino potremmo eventualmente autorizzare degli interventi conforme con le prescrizioni dettate dalla prima fase delle norme tecniche che abbiamo elaborato successivamente nel momento in cui saranno realizzate le casse di espansione e tutti gli interventi quindi tutti gli interventi strutturali saranno messi a sistema e comunque prima di un'eventuale deperimetrazione o riduzione del rischio che deve avvenire dall'autorità di bacino a seguito di un procedimento dell'autorità di bacino potremmo autorizzare gli interventi seguendo le norme che abbiamo previsto nella seconda fase quindi ecco questa era la prima domanda che la prima risposta alla domanda che mi faceva rispetto appunto agli interventi messi in campo volevo specificare che questa proposta si basa su un presupposto fondamentale cioè che quando c'è stato l'evento alluvionale che è stato un evento molto particolare molto grave e anche molto poco ricorrente la manutenzione dei fossi come è stato detto anche precedentemente dagli altri consiglieri effettivamente aveva delle forze forti carenze e proprio nelle relazioni abbiamo riscontrato che già la provincia a suo tempo e poi la regione avevano comunque verificato l'eventuale miglioramento delle condizioni di rischio già solo a seguito di interventi di manutenzione costanti e quindi su questo presupposto noi abbiamo elaborato la proposta di mitigazione del rischio rispetto alla quota delle aree inondabili allora l'area è molto estesa quindi la quota del terreno proprio per conformazione del terreno va da 26 metri sul livello del mare a 29 metri sul livello del mare la ferrovia in questo momento la ferrovia si attesta a 26,5 metri sul livello del mare quindi considerando che la ferrovia fa da barriera le acque ma allo stesso tempo è il nostro è la nostra quota morfologica di esondazione quindi noi sappiamo che nel momento in cui le acque raggiungono la quota della ferrovia poi superano la ferrovia e quindi automaticamente l'alluvio l'esondazione si riduce noi abbiamo inserito sia questo riferimento della quota morfologica ma anche proprio perché l'area è molto estesa quindi non avremmo potuto identificare una quota alluvionale specifica e proprio perché per conformazione l'area arriva fino a 29 metri sul livello del mare noi abbiamo comunque specificato che questa quota inondabile deve essere individuata dal progettista nell'ambito del progetto specifico e puntuale non so se ho risposto se vuole altri ah sì il 5% al 5% una percentuale diciamo che l'autorità di bacino ascoltando parlando con l'autorità di bacino abbiamo capito che tutto ciò che comunque viene sovradimensionato o ridotto nell'altro caso rispetto a eventuali possibilità edificatorie va verso la riduzione del rischio e la mitigazione quindi questo intervento è già previsto all'interno del procedimento di realizzazione delle opere quando la superficie coperta viene aumentata quindi si riduce la superficie permeabile noi abbiamo richiesto un 5% in più del volume dell'invaso di queste vasche grazie grazie l'architetto vecchietti non ci sono altre richieste di intervento passo la parola al sindaco per le conclusioni prego rispondere al consigliere Ginetti in merito alle delibere di giunta che lui ha visto giustamente o alcuna con un parere positivo un'altra con un parere negativo perché proprio perché il PAI dicevo in premessa è uno strumento di tutela nell'assetto che può essere superato con una proposta da parte del portatore di interesse verso quella zona e allora quelle che tu hai visto in giunta sono proposte del privato in favore del superamento della tutela la proposta che invece va in consiglio stasera è una proposta di mitigazione per l'intera area che fa l'amministrazione pubblica quindi credo che sia un'opera importante che aiuterà tutte le imprese adesso stasera prima era giusto dividerci tra maggioranza e opposizione perché sul PRG siamo davvero diviti sulla mitigazione del rischio adesso non è che permettetemi di dire non è che l'ha fatta Latini non l'ha fatta nemmeno Pugnaloni facciamola insieme perché per il bene delle imprese del territorio però se ogni volta la Burdoni mi deve dire grazie a Tino Latini che sta in regione allora io dirò sempre grazie a Simone quel ragazzo eletto sin dal 2014 facciamo ragazzi eleviamo il dibattito la mitigazione dei rischi c'è due componenti l'amministrazione comunale che la propone e la Torre di Bacino che si deve esprimere io spero che in questo caso l'ente sull'ordinato si esprima favorevolmente perché c'è stato un pre-dibattito di natura informale con chi dovrà esprimere un parere in questo pre-dibattito sembra che ci sia stata una sinergia tra ciò che è il lavoro della dottoressa Vecchietti dell'ufficio comunale deputato a proporre questa mitigazione e sembra che la Torre di Bacino sia favorevole a ciò che proponiamo quindi il bene saranno le imprese di oggi poi ci sarà un'impresa che ha votato Latini e un'impresa che ha votato Pugnaloni l'importante è creare occupazione tutti quei lavoratori che dopo la mitigazione del rischio avranno un lavoro grazie a questa operazione e che quindi porteranno reddito nelle casse di imprenditore nuova occupazione nuova IMO e quindi anche si rimpingeranno anche le casse comunali quindi io credo che questi imprenditori che lo aspettano a tempo all'ottima situazione ci sono tante di quelle imprese importanti della città tutta avranno soddisfazione da questa opera che spero voteremo tutti insieme grazie grazie sindaco sono aperte le dichiarazioni di voto grazie ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Ginnetti io voto da favorevole e poi chiaramente faccio chiedere anche ma poi lo faremo in privato eventualmente riguardo alla allora praticamente diciamo che questo tipo di mitigazione autorizza la costruzione nei lotti che ricadono nell'area la vocazione appunto all'area produttiva più il piano casa più altri interventi quindi effettivamente ha il potenziale carico carico urbanistico si chiama può aumentare moltissimo anche questo poi non rappresenta poi questo mi risponde dopo perché adesso siamo in dichiarazione di voto però anche questo è un discorso che volevo tenere presente ovvero quanto potrebbe incidere qualora ci fossero dire 30-40% se tanto forse un 20% che ampliano più la diciamo la nuova nuova edificazione riguarda i lotti ancora liberi nel perimero dell'area industriale grazie grazie consigliere Ginnetti chiesto la parola al consigliere Simoncini prego ma io vabbè preannuncio il mio voto favorevole come ho detto prima però quello che ho sentito dai colleghi lo voglio rimarcare non è che con questa con questa situazione siamo sani e salvi dobbiamo fare in modo dobbiamo diciamo marcare stretti gli enti sovraordinati e gli altri enti che possono fare qualcosa quindi le altre casse di espansione le altre vasche di espansione un miglioramento della sezione del ponte sulla ferrovia che attualmente come ho detto prima funge da tappo perché ha tre campate in muratura molto strette e quindi facilmente che si possono facilmente riempire di detriti e poi naturalmente la pulizia dell'asta torrentizia perché questo è fondamentale una volta c'erano i contadini frontisti che pensavano a così tagliare la legna tagliare i rovi eccetera perché gli serviva per il loro sostentamento gli serviva per riscaldarsi eccetera eccetera oggi purtroppo quel lavoro non si fa più perché il lavoro nei campi è legato ad imprese agricole affittuarie o quant'altro insomma che non sono più i contadini di una volta a guardare la propria porzione di sponda del fiume ecco io credo che questa iniziativa è un passo ma la strada è ancora lunga perché la messa in sicurezza di tutta quell'area passa per l'attuazione completa di tutte le vasche di espansione sia sul forso l'offagna quindi san biagio eccetera eccetera passa per una costante manutenzione del 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 fosso passa per la per il rifacimento del ponte sulla ferrovia perché è quello che ha fatto nel 16 settembre da tappo e ha e ha consentito alle industrie di osimo stazione fronte fronte statale 16 di avere l'acqua a 2 metri 40 2 metri 50 dall'altezza all'interno del piano terreno del proprio capannone io io l'ho visto io quel 16 settembre ho girato e poi il giorno dopo con Bertolaso capo della protezione civile abbiamo girato e lo spettacolo era veramente tremendo ecco quindi che rimarco il fatto che giustamente come è stato detto bisogna fare pressing su coloro che sono deputati a completare queste opere se la regione se la regione è la regione se è l'ente ferrovia dello Stato se sono altri enti altri enti perché noi abbiamo il compito di far tutto il possibile perché il nostro territorio sia in sicurezza ha chiesto la parola il sindaco per dichiarazione di voto prego voto favorevole con una precisazione che non eliminiamo alcun R4 ma diamo la possibilità di fare interventi che prima non erano possibili con degli accorgimenti inseriti in delibera che erano quelli evidenziati dal consigliere Ginetti per il quale ha chiesto di capire meglio la quota di calpestio l'aumento della percentuale di invarianza idraulica e il versamento in un capitolo apposito del 10% di oneri proprio per la pulizia dei fossi quindi non è che superiamo l'R4 siamo tutti insieme tutti insieme dobbiamo sollecitare la regione affinché arrivi presto la gara da 6 milioni di euro per le vasche di espansione ma sono state fatte delle opere connesse alle vasche di espansione per un milione e due la vecchietta prima letto è specificato che l'accortezza di questi anni dell'amministrazione di tenere puliti i corsi d'acqua assieme alle opere connesse svolte dal Consorzio di Bonificio oggi ci permette di migliorare le prescrizioni attuali non eliminiamo il rischio R4 possiamo dare la possibilità agli imprenditori di effettuare nuovi interventi di nuova natura se rispettano le prescrizioni che mettiamo in delibera l'ente deputato a dirci sì è l'autority del medio appennino adriatico e non la regione Marche grazie sindaco non ci sono altre dichiarazioni di voto quindi possiamo passare alla votazione grazie a tutti grazie a tutti mancano i voti del consigliere Bottegoni e del consigliere Fericiani manca il consigliere Bottegoni consigliere Bottegoni è presente consigliere Bottegoni assente 21 voti favorevoli votiamo adesso per l'immediata eseguibilità consigliere Bordoni il consigliere Bottegoni consideriamo sempre assente il consigliere Bottegoni 21 voti favorevoli anche per l'immediata eseguibilità chiudiamo il punto numero 4 all'ordine del giorno e passiamo al punto aggiuntivo che è la ratifica dell'approvazione d'accordo di programma di cui al decreto del presidente della provincia di Ancona numero 74 del 14 giugno 2022 variante al PRG per la realizzazione di opere relative a strada provinciale della Valmusone dorsale Marche Abruzzo Molise variante al padiglione di Osimo e collegamento tra la strada provinciale 3 con la strada provinciale 361 ex strada statale 361 settempedana e approvazione variante al piano di zonizzazione acustica comunale vigente passo la parola al sindaco per la presentazione prego si conclude un iter importante che ha visto protagonisti tre enti ciascuno per la propria competenza e che spero vedrà il progetto esecutivo approvato per la fine del 2022 e la gara da indire per il 2023 spero che questo cronoprogramma possa essere attuato al meglio la competenza del comune si conclude con questa presa d'atto dell'accordo che c'è stato e che cosa prevede ecco la burocrazia quando i cittadini ci incontrano e ci dicono sindaco qualsiasi sindaco sia prima di me oggi io domani chi ci sarà la domanda sempre è quando partono i lavori e la risposta che noi diamo spesso la burocrazia ci attanaia questo è un percorso nato tanti anni soldi che sono transitati per il bilancio della provincia di Ancona 2.750.000 euro e che serviranno mentre l'amministrazione comunale sta investendo nell'atto verso case nuove per bypassare il traffico sul cruciale di padiglione questa opera servirà a bypassare il cruciale di padiglione sul versante campo cavallo speriamo che che cosa facciamo oggi apprendiamo un accordo per le varie competenze e approviamo il progetto preliminare che costituisce variante al piano regolatore poi dopodiché la provincia dovrà fare la gara di progettazione del livello definitivo esecutivo e poi la provincia farà la gara per la realizzazione di questo di questo bypass stiamo lavorando molto molto sull'intermodalità e la viabilità cittadina e quindi grazie a tutti gli enti che si sono interessati a questa importante operazione che si sta portando a compimento io come la consigliera Bordoni sappiamo quanto ci tiene la professoressa Maria Vaccarini che è a capo di un comitato a padiglione che ci ha sempre sollecitato dal primo giorno del mio mandato e penso prima le liste civiche e ancora oggi le liste civiche hanno un esponente presso il governo regionale speriamo che insieme soledicando un po' tutti gli uffici comune provincia regione si possa arrivare quanto prima anche a vedere la partenza di questo lavoro importante per la città di Osimo grazie sindaco è aperta la discussione ha chiesto la parola il consigliere Simoncini prego ha detto bene Pugnoloni questo progetto parte da molto lontano parte dalla mia amministrazione che andava ogni settimana in provincia soprattutto dalla presidente la buonanima di Patrizia Casagrande andava a sollecitare fondi per la strada di bordo eccetera e c'era la totale avversità dell'amministrazione Casagrande alla strada di bordo ma sul finire no sul finire credo 2012 2013 in una riunione io frontaloni l'ingegnere Manarini che all'epoca era dirigente dei lavori pubblici della provincia oggi è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Ancona e la presidente Casagrande raggiungemo un accordo che poi ratificiamo come atto di indirizzo sia dell'amministrazione provinciale che dell'amministrazione comunale l'atto di indirizzo era che loro non volevano sentire parlare di strada di bordo ma il tratto tra la Gironda e Campo Cavallo per loro poteva essere una bretella e la chiamarono e siccome questa bretella si congiungeva con il bypass verso ovest della frazione di Padiglione e questo tracciato tra la Val Musone e questa viabilità di piano regolatore che era una grossa parte una grossa fetta della strada di bordo assomigliava tanto a una attirovesciata questo progetto venne definito la strada della tirovesciata e appunto poi facciamo un altro indirizzo per andare avanti e per inserire questo bypass della frazione di Padiglione nel bilancio della provincia e questo venne inserito e venne inserito e venne anche appunto credo finanziato anche perché poi c'è stato anche finanziamento regionale che ha che ha contribuito per cui è un inter che parte da molti anni da molti anni e sono contento che la regione abbia in qualche modo sollecitato provincia comune e regione stessa a firmare un accordo di programma affinché si si faccia questo bypass sud della frazione di di Padiglione che poi si interseca con il bypass ovest della frazione di Padiglione che è appunto la partenza della nostra strada di bordo dal ponte sul fiume Musone a venire su verso la sede della rega del filo d'oro e via ecco anche questa delibera mi trova d'accordo perché mi trova d'accordo perché è veramente un punto fermo in un iter lunghissimo che ha ragione Pugnaloni la gente ci chiede ma quando cominciano i lavori e noi invece li dobbiamo arrabattare sempre con dei pareri eccetera che spesso e volentieri non arrivano mai e che hanno tempi faraonici per cui noi non possiamo dare tutte le risposte ai cittadini ecco questo è un esempio di una iniziativa pubblica importante che parte con un'amministrazione e arriva addirittura alla fine del doppio mandato della seconda amministrazione per cui sono passati davvero dieci anni da quando l'abbiamo pensata a quando potremmo vedere la realizzazione però questi sono i tempi della burocrazia italiana sono i tempi che tutte le amministrazioni purtroppo si trovano a a dover affrontare e non ci possiamo far nulla insomma io sono favorevole a questo a questo punto diciamo a questo punto lo trovo come l'ho trovato inizialmente un disegno urbanistico di viabilità sulla sulla tratta della Valmusone quindi di mare e montagna mare interno della della provincia di Ancona una cosa molto importante come come sarebbe anche molto importante fare una un bypass della frazione di case nuove e anche della frazione di campo cavallo però per lo meno ad ampio scorrimento alto scorrimento la frazione di campo cavallo tutto sommato ha la viabilità di via Saragat via Covo che in qualche modo funge un po' da la circonvallazione ma sarebbe il caso di fare una circonvallazione sulla Valmusone magari a sud della frazione in modo tale che il traffico pesante non ingolfi il centro frazionale questo fa parte di un disegno più ampio che è la riqualificazione dell'intera statale provinciale Valmusone che è uno degli assiliari più importanti della nostra provincia perché appunto collega il mare all'entroterra dell'Anconettano come sapete bene poi finisce praticamente Agiesi eccetera quindi anche questo punto mi vede favorevole e sono contento che alla fine sia pur con un iter insomma elefantiaco quell'intuizione che avremmo nella sala di unione della presidenza della provincia io Manarini Frontaloni e la Casa Grande insomma alla fine della fiera dopo tanto penare possa vedere la sua realizzazione grazie consigliere Simoncini ha chiesto la parola alla consigliera Bordoni prego grazie presidente stasera non si può non intervenire in quest'atto che da tanti anni che le attendiamo e ci ha voluto il governo del centro-destra regionale per accelerare le tempistiche eh per accelerare le tempistiche quindi mi spiace che Pugnaloni invece non presenta quest'atto come una giornata memorabile come ha fatto per tanti altri atti no di sua volontà come giornata storica ecco oggi è una giornata storica che andrà nella storia questo è un atto molto importante perché comunque è un atto che tutta la residenza del padiglione sta attendendo non solo il comitato che sicuramente eh diciamo sono le persone più attive ma tutta una un quartiere tutta una popolazione perché comunque con quest'atto si almeno c'è la speranza di andare ad intervenire un po' nel traffico nel benessere quindi dei cittadini nella nello smog catanaglia proprio la la frazione proprio quel tutto quel bel progetto no? che ci avete prima prospettato della qualità della vita quale più di questo insomma è il primo atto veramente fattivo benché non rientri su tutto quel progetto memorabile dei sogni però ecco sulla qualità della vita sicuramente andrà ad incidere soprattutto per le la popolazione del padiglione quindi merita eh un'attenzione particolare quindi il nostro voto sarà sicuramente favolevole grazie consigliere Bordoni chiudiamo la discussione e passo la parola al sindaco per le conclusioni diciamo che nella foto era più bella la Bordoni che il sindaco di Osimo però purtroppo la competenza a progettare fare la gara era della provincia io infatti ho detto al presidente ma la conferenza stampa secondo me la fatta in provincia però adesso siccome il centrodestra governa la regione allora si fanno le regioni queste conferenze stampa però l'unica competenza che c'è la regione in questo atto è quando la provincia avrà fatto il progetto quando la provincia avrà fatto l'appalto quando l'azienda avrà finito di costruire questa strada l'unica cosa che fa la regione è diventare proprietario della strada quindi è il centrodestra per la Bordoni che fa tutto questo non è così ci scherzo sopra però l'importante è che arriveremo alla realizzazione di questa strada per la città di Osimo e per la frazione del Padiglione grazie sindaco apriamo le dichiarazioni di voto non ci sono dichiarazioni di voto possiamo procedere con la votazione manca la consigliera il consigliere Bordoni il consigliere Bottegoni il consigliere Brandoni il consigliere Canapa il consigliere Gallina Fiorini il voto il consigliere Ricci manca solo il consigliere Bottegoni che mi sa che è assente il consigliere Bottegoni mi sente consideriamo assente il consigliere Bottegoni 20 favorevoli votiamo adesso per l'immediata eseguibilità manca il sindaco e manca il consigliere Ricci il consigliere Bottegoni assente 20 favorevoli questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno chiaro chiuso il consiglio comunale e vi auguro una buona serata arrivederci buona serata grazie a tutti grazie a tutti